arriva ciao piccolo come ti chiami sandrino ciao sandrino molto piacere io sono toni toni questo vende i led quelli lì che ti fanno una scritta in testa vende led si sono dei led dietro al collo anche se funzionano queste cose ma ma io le voglio anche come mi chiese compro ma che miglia sto vedendo siente di tutte propongo una cosa pablo avanti se sei uno di quello serio facciamo una cosa io gotti max e tu con lamborghini vediamo cominci troppo vuoi fare da qua fino a fine della strada vedremo qualche accelerazione vogliamo provare io con una ruota come voi avanti vai sal sal avanti che ti spacco noi via avanti siamo pronti siamo pronti ma dire via signorina la ringrazio occhio che sotto max è abbommato piccolo tieniti lì dietro occhio che sbatte nella ruota ti spacco in quando vuoi quando vuoi ma io la sento alza la voce alza la voce tieniti stretto piccolo sanzino vai 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 quando vuoi che ti taglio noi via come ho finito passa partenza passa partenza aspetta un minuto che torniamo indietro qua sono qua sono fa sta partenza alza le mani quando le appassi ma le abbassi noi partiamo va bene vado allora 3 2 1 via ho un favore dai che infame troppo veloce sono arrivato io primo non si è arrivato qua davanti nel muro era fino a muro avanti facciamo la ritorno quando 321 via a cappa a cappa bello frontale è bastato fermiti un famone che la prossima volta ti taglio con noi ti taglio bella sta macchina che è nuova era nuova era nuova dice prima dell'incidente e niente allora che stavate facendo di bello lì stavamo in giro ho conosciuto il giornalista quello la di the legend ah sì ma poi paradiso stava accanto a haidi ho detto se vuoi sentire veramente la canzone di haidi rivisitata ti consiglio il vuci anche il proprietario toni davvero un bravissimo era paradiso non lo so comunque gli occhiali lo prendono sempre per un non pensante lo prendono sempre a cazzo è quello che c'è i capelli bianchi no 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 sempre un giubbotto marrone allora non ce l'ho pensato comunque io ho detto di venire da te hai fatto bene hai fatto bene quello è trovato al bus anche ottimo cantante ottima musica come che canzone vuoi cantata la canzone dei gattoni animati vuoi cantata pistole nella fendi maresciallo non ci prendi pistole nella fendi le dice sono buona mon amour fanno i video con i ferri poi chiamano gli agenti io non me la ricordo non me la ricordo me la devo ripassare questa idea è bella la conosci tutta lo vedi cattone animato colorati haidi no te lo sei visto mai io non vedo cattoni che ti posso cantare la sigla non lo so avanti quando passi al locale ti ho detto con una canzone tutta per te va bene solo i migliori solo i top solo i top quality non è per tutti no 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 ma io non ci sei mai andato io ci sembro una prima volta sento io no ma stai andando la doni io la sto andando al locale ma veniamo ci vediamo la vai che lo facciamo vedere a più puoi andare pure sul motorino con doni ti fa vedere come si alza la ruota vuoi venire con una ruota inizia a imparare un po' come funziona la prima volta venire qua venire qua che te lo insegno come si fa come si esc oportuna una ruota solo questo motorino madonna mia ma questo è fuori realista no ma non ce sto credendo è che manca c'è madre a cacate di stare attenti scende si scendano provate quali tare ma adesso perchè ti sono orse aspetta apposta andiamo qua ti faccio vedere come si imbegna con una ruota avanti tieniti tieniti bello stretto bello forte eh tieniti bello aggrappato proprio appicciocato io ma lo voglio anche io il led questo qua dietro la testa michael grazie delle 200 stellozze fra grazie mille aio aia 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 ancora con questo dito te lo taglio senzino che mi chiamo a fare che voglio dire qua sperando che era il dito ancora ma chi tocchi senzino occhio che ci vuole poto darmi e se si deve chiamare la protezione animale a quando a babbo guarda come si pacchia con una ruota ha visto è una ruota se vuoi entra pure dentro questo è paccheggiato così con una ruota bello pulito pulito e via ci sta avanti prego accomodate vedi che bello va ma tu non la consumi la ruota davanti no 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 la ruota davanti e sembra il cambio gomme una ruota del cambio adesso come bene e allora che pioffa che cosa da mangiare da bere ma le faccia lei signor Tony io allora 9 e 9 prendiamo allora vieni qua piccolo che ha detto qualche cosa e dagli pure il led è gratis a Tony no Tony no a me c'è il pesce duro e di che il sushi questo qua è una specialità Gu Chang secondo te che fanno le vizie eh ma noi siamo come si dice rispettiamo tutto qua non è che facciamo le cose così a Coppola di Milano torna un po' il cinese eeeh sottardi 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 il cinese prego signorina grazie signor Tony ma lei canta anche per i matrimoni per caso? io ho matrimoni, battesimi, comunioni, gresimi qualsiasi evento sono disponibile ah è sentita oh buonasera ragazzi sono il migliore minchia saluti saluti sandrino dimmi un po' meno però eh cosa fatti? niente ci fa hai visto Sandrino? sandrino ciao sandrino vende i led sandrino vende i led sandrino vende i led sandrino fanno le scritte in testa vende i led io ho le led vendi i led? prima mi ti canta la canzone e che canzone vuoi cantare davanti? scegliene una tua che te la canto non so una che ti pare una che mi pare vai il tuo cavallo di battaglia sempre vieni copandetta vieni copandetta? si e allora ci cantiamo vaseme avanti vado sul pacco vado sul pacco però non so se cantare vaseme o qualcun'altra ragazzi ma perché sono i palloncini? ho sbaglio sono i palloncini? cazzo ne voglio una e allora vado dai mi fa imbazzire quando passi sotto casa vorrei fermarti ma non so se ci trova scusa voglio parlare con te ma voglio fermare il mio tempo perché vuole se sta tutto fino all'eterno amami chi già mi sente innamorato e te baciami mi fai tremare il cuore e l'anima brivido ma solo perché ancora tu non stai con me che che le stelle ti regalerò chi sta sera e te ci incontrammo qui da me e nessuno ci può mai vedere vaseme stasera si mette soltanto a me in se nuvole stiamo volando sopra i cistoli e te stringami che questa voglia fa tremare pure l'anima esiste solamente tu vaseme pulisca studiampo se fermasse proprio ca mentre sta voce cerca chi le cade fa imbazzire mentre e vedi st'amore sto piacere che mi fa trovare sta storia non tornisce a cacaca niente non sono superato mamma mia grande grazie 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 la conosco la conosco Michael la prossima ci sposiamo le invitiamo quando volete non solo le invitiamo le fa pure un bello poi per il matrimonio gli dedichiamo alla signorina voglio a te ancora una moto mi manca st'amore voglio a te ma quando ricordi lentamente quando le mie labbra baciava che hai l'idea non c'è capo lavoro vuoi fare mettere dei led puretoni ma come funziona questi led ca puoi scrivere quello che vuoi e lui di dei led che esce tipo io ho questo minchia bello poi ho questo qua con vile minchia toni è un doppio è bello eh puoi mettere pure toni vile un po' di toni di toni di toni di toni toni pandetta toni pandetta è bello polo questo c'è pure un ballo tipo quando fai il ballo e serate eventi battesimi contattatemi in privato dai dimmi che puoi scrivere dai mettici toni pandetta nico pandetta toni pandetta toni pandetta come ti chiami so applicativo bella è ma damiano gialluca grazie dei like raga buonasera ehi te l'ha pensato guarda i miei pensieri piccolo sandrino devi leggere nei pensieri non mi hai fatto la canzone di ai di toni come? canzone di ai quella che mi è la mia preferita si è a me è la mia preferita è la mia preferita ti ha scagaiti 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 mi turni desto i mondi scagaiti scagaiti le gabrette ti fanno ciao grazie poesia bravissima doni mi sa proprio che hai sbagliato come e via lì sistemi ha mandato non mi è arrivato vedi no ma come in che glielo hai mandato santrino mi hai messo la i ok ok ci sono ci sono dovrebbe essere a posto vengo l'hai inviato si eccolo grazie mille si è bellissimo ti ringrazio ma non sai cosa io invece una volta io sapevo fare con questo minchia di bind sapevo fare le animazioni sai insomma quelle rapide mi aiuti qualche volta a sistemarle grazie meno male che ci sono i bambini ma quindi ogni volta per farlo devo fare in quel modo si quel muscoletto premilo preprova ah già perché c'è il muscoletto vabbè minchione che so va pure più volte va pure più volte vedi se io ballo ah vabbè no non ti preoccupare poi metti questo ballo qua vedi che funziona così lo stesso eh lo sai ma la hai capito ah vabbè ah minchia c'è fa tutte e due insieme ma capito eh vabbè niente io posso buono buono la vuoi? ah no poi poi qualche volta con calma quando mi aiuti a sistemare quelle cose la semmai si va bene poi metti pure tonion pie tonion pie è bello si prima di cantare capi che sia un fuoco si si quindi fai tonion pie ma si può fare una colonna infinita si infatti in macchina non vedevo davanti quando facessi i poloni questo è il led che vende lui si mettono dietro bello ma quando le fai pagare queste qua eh 50k l'1 minchia si sono costosi nel senso di no si mi ha fatto prendere un altro lavoro al giorno sembra il giornalista di The Legend ha detto lo vuole pure lui come mi hai chiamato? Sandrino ti hai chiamato Sandrino ti hai chiamato e che è? boh sentito male ti piace Sandrino quando vado dalla signorina Gaia che è bella sei tu dai arrivo oh no si chiamato eh ciao dimmi ti ho abbandonato eh? e allora Gaia come stai? Tony Vampire sta a posto è tutto a posto Tony guarda che cosa mi ha fatto il bambino Sandrino nooo si dai che bello no pure io lo voglio i letti colorati penso che sono belli sono belli 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 eh stasera c'è una scappa a codacqua praticamente su 50 cm prima o meno eh si dai che bello il cavallino che lo mi ha fatto? e Olaf è un po' carino è un unicorno cari noi andiamo oh va bene noi ми cioppiamo dopo vuole tali rimane un po' God Tony gu 초� va bene ma scusa ma è tal puo a che figlio? quello che stavo capito ci becchiamo dopo le ragazze ragazzi siamo amico e stai a tutto a posto che si dice sono appena arrivata allora io vi parlo molto onestamente ultimamente mi stanno scoppiando le balle quindi occhio poi sono in pericolo esplosione da un momento all'altro quando capo sa famiglia ma è di meno cosa ma stasera c'è quel fattore la si no no solo vedere solo senza prova non le facciamo neanche accendere solo le mettiamo chiuse qualche problema ricerci no qualche piccola stupidata però le possiamo già esplorere ma non già domani sono tutte pronte per la vita va bene va bene e mi stavo dicendo ma il direttore stasera c'è il direttore arriva un pochino più tardi in caso si ma che venga ne parliamo dai in caso di un carico tt di contattare tutte le famiglie e trovare un posto così va bene va bene va bene va bene va bene va bene a dopo a dopo a dopo ciao 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 posso venire e buonasera posso venire buonasera 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 salve prego posso chiederle un 3 e 3 assolutamente si a bene ciao e allora come si chiama lei io sono franco ah franco sei tu forse sei un franco diverso da quello che conosco io non lo so tu hai la voce di uno mio amico che si chiama Tony io Tony sono Tony Pappalardo Tony Pappalardo sono ah e tu sei franco è proprietario del concessionario vecchio proprietario del concessionario si franco come sei comparato erai qua stavo facendo pagare la fattore come stai eh tutto bene tutto bene tutto bene si diciamo che prego sto pensando di cambiare aree di se riesco a lasciare una reddita qua sto pensando di cambiare aree ah ragazzo ho capito ho capito però dai questo mi dispiace ho capito ho capito hai qualcosa da mangiare eh ma faccio spazio ai più giovani la lascio a mio nipote eh vabbè non male ci sta è giusto giustamente dice eh abbiamo dei pesce gara a un certo punto ci sta anche la pensione eh sì eh ci vuole dei pesce eh grande grande è stato un piacere eh sì anche per me ci faccio qualcosa io forse alla prossima alla prossima alla prossima ciao buonasera oh e buonasera prego volete scassare tutte cose potete andare la in fondo con te semente buonasera oppure qua sotto eventualmente se a chi mi chiesto di cercare che è successo ragazzi un pezzo di merda uno stronzo ma chi è questo qua non so il nome ma mi avevano detto che era qua ma chi vai qualche informazione da dare c'è chi si all'occhiale è un cretino appena lo vedo gli spacco tutti i denti ma chi ha fatto ha fatto cose che non deve fare ci faccio maniare i confetti ma l'avete visto questo qua che è uscito ora no non era l'uniceo era frango quello va era franco era frango bene a dopo a dopo penso che l'hanno trovato ciao immagino che l'abbiano trovato eh persino non lo so è fermato no ma è bello che avevano le mazze da colpe li ho visti un po' cacqueriti eh si andiamo a vedere se fermano qualcuno qua si fanno arresto vi dicevo ragazzi che probabilmente il cambio piattaforma arriverà da proprio dal giorno 1 dicembre probabilmente eh quindi comunque vi terrò aggiornati raga vi farò sapere in ogni caso no non vi preoccupate no oddio ho chiamato ma che meglio è successo ma erite e che è uscito dal vuchang e che cazzo fai non saluti neanche con chi parli con me ascolta bisogna vedersi dimmi te come doni mondiale ma è quello va bene ciao a posto anche successo niente c'è che tante cose a me non mi vanno bene sto vedendo proprio a minchia scoperta sono buono e caro però poi quando c'è le cose che non mi torno divento cattivissimo che minchia te le hanno tagliate con l'accetta queste capelli buonasera ragazzi stasera c'è da scoppiarsi le noccole delle mani e lo dico ottimo e lo sai noi siamo sempre a massima disposizione quando vuoi che fotti tiene il cazzo di di tutti e vieni con noi e 61 di famiglia lo rimarrai per sempre grazie 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 veramente ma non volete niente da mangiare da bene mentre siete qua dai ragazzi facciamo che si fa io c'ho mille dollari niente ma che però io offro io stasera che mi interessa se non voglio guadagnare sto guadagnando troppo esotico ma c'è bisogno ragazzi io ho una cosa da bere io sono a porto toni grazie io sono freddissimo claudio da me c'è freddissimo c'è l'etna piena di neve e allora dimmi bro tirati rari tira riaccia che sta succedendo e tira troppa aria brutta quando uno va uno viene quando li fare un altro parla di lì polizia insomma tono buonasera non ci siamo bene 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 ora tu sopra di te ora tu a chi c'è in questo momento i bianchi in questo momento mi hanno fatto un'offerta allettantissima i bianchi sono quelli che mi hanno offerto la roba migliore diciamo ma tu al momento stai lavorando che porti un po io solo l'erba loro e agli altri soldi sporchi ho capito però mi hanno detto i bianchi se i soldi sporchi passano a loro noi bisogna portare 10 milioni cambiate al 60 per cento a chi aspetta ai bianchi si vogliono 10 milioni si dammi un attimo pronto madonna ma regà ma qua c'era un freddo stasera sono uscito poco fa accompagnare la mia ragazza a casa c'era tipo 6 gradi pochissimi ragà veramente pochi ce n'erano ma dimmi te prima vai all'appuntamento vai ciao e allora i bianchi sono venuti da me mi hanno detto senti a noi questa faccenda non ci sta più bene voi rischiate troppo e hanno ragione portare 15 milioni rischi tanto perché la polizia mette sicili e se ne va noi siamo sempre in giro a batterci la faccia e su 10 volte se ti va bene 6 è già grassa arriva a 5 reati si fa veloce ci vuole un cazzo altra sera mario mi diceva che ha dovuto cambiare un pochino identità diciamo tra virgolette perché a quanto pare aveva dice tipo 5 reati di classe a che cosa di questa minchia io c'avevo quattro il gasto lì insomma appunto ma quella missione come minchia e cioè quella situazione come è finita lì poi avevi lasciato alla pennina ho dato alla pennina con le prove ma e ora ce l'hai pulita che insomma me la sono risporcata lavorando 15 milioni riscrivi al 40 15 a 40 sono un poco eccessivi mi sembrano voglio dire cioè sì sì mi sembrano un poco eccessivi e quest'altri ci hanno detto di portarne 10 e ce le cambiano al 60 anche perché se gliene portate 15 a loro sono sempre cambiati a 60 voglio dire capito e non male che compiene però ovviamente quelli fanno un manicomio appena scoprono questa situazione che dopo fa io se gli dicevo di no lì quando devi guardare i tuoi interessi brus a te che mi guarda un cazzo non deve fregare una minchia di quello che pensano ti devi guardare il tuo e lo so però hai visto no faccio fatica a girare le spalle spalle ho lavorato finora per loro e faccio fatica a girare le spalle però è anche vero che i ragazzi mei rischiano tutti l'ergastolo sono ora eventualmente vedo che posso fare io dovrei incontrare tutte le famiglie vediamo che cosa posso fare rendendo andando tu insomma se c'è qualche novità ti faccio sapere io e calcola i bianchi ci hanno preso un magazzino che ti dicevo prima più 850 mila dollari per pulire la fedina penale a tutti e ciò voglio dire cioè c'è una netta differenza insomma questa situazione no ma fai bene però se c'è da l'appoggio quando ti pare anche ora il direttore dei con noi ce ne fotte un cazzo ora qualche cosa la sistemiamo sicuramente regata stasera prima mai non mi fai schizzare qui diciamo che arriverà un nuovo business in città da domani e quando pare il direttore me lo vuole affidare insomma bello infatti in serata probabilmente cioè sicuramente ti contatterò perché ci sarà un'esposizione di auto giapponese ancora non dire niente in giro insuperante prima questa sera ci sarà solo esposizione e domani credo che faremo la vendita cioè l'asta proprio per la vendita perché ce ne saranno pochi di queste macchine qua infatti ti dico di mettete da parte un poco di milioni si parla di a meno base di asta intorno ai 4 milioni 3 4 milioni base cosa ci si può fare con queste robe gare clandestine brusso roba di un certo livello quelle sono tutte macchie non targate che non possono circolare su strada c'è il presentatore diciamo l'organizzatore l'organizzatore però non lo so probabilmente ci sarà che cosa possiamo fare ma dimmi una cosa ma tu quando parti per i venerdì no scusami sabato mattina e tu quindi ci sei sabato e domenica va bene va bene va bene va bene non solo tutto minchia faccio un casino tono alla metà basta mi butteranno fuori di sicuro va bene comunque vai noi insomma in zona d'ora ci aggiorniamo va bene metto il cappello e niente toni qua ho chiesto che dite e mi sono fatto domande risposta da solo chiesto che cazzo fai parli male perché ti si muove la dentiera non no 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 ma noi noi ti abbiamo risposto sei tu che non hai sentito perché non senti bene scusa grazie ma è quindi questo qua sarebbe il famoso toni lui è il famoso toni aspetta molto piacere lei è tyler molto lieto tyler lo conoscevo sto fedelo una brava persona io sono peppe piacere tono ciao peppe molto lieto toni tono degli amici o guarda che ti faccio vedere bro maresciallo non ci prendi mi sto bene l'attene e andrei a fare una gioielleria come ai vecchi tempi con la città sì sì aspetta un attimo che ci penso io ragazzi ora faccio scassare le risate eccolo toni pandino toni pandino andiamo tutti allora ragazzo ce l'ho ce l'ho dall'altra parte però c'è anche questo interessante questo questo tono ascolta si fa vado un attimo a sprofondando vabbè io vado a fare un giro al nicky toni sai che mi sono comprato pure sono comprato una colpo vecchia bella bella piccola maneggevole bella 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 non lo so bene dopo te la farò vedere penso di sì però quanto lo tocca il direttore non ne ha intenzione eh no a momenti arriva sì 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 ma a momenti arriva o a momenti non arriva ma che macchina era hai sentito K ma K mi ha detto un'ora fa due minuti e sono lì eh vabbè sempre la stessa storia due minuti e sono lì sì sì mi ha detto che dovremmo fare la presentazione delle macchine giapponesi stasera ah e quando eh boh non lo so eh sono ed è meno eh ascolta per avvisare non c'è nessuno per ora no guarda piuttosto non ti preoccupare non ti preoccupare piuttosto ok 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 quando ho avvisato ti chiamo ma vabbè anzi potrebbe avvisare Gaia per noi cosa? eh per fare una rapina un po' to match siamo tutti ehm ehm ditemi allora lo sai come la facciamo rapina auto d'epoca cinquecento pandino pancia detta sì sì praticamente sarebbe da avvisare avviso io sì eh dici Bruce e Tony faranno una rapina secolare quelle in po' to match come la grappa come la sambuca la secolare va bene io avviso e vi do vi chiamo quando mi rispondono ok tanto non ci interessa né dei gioielli né di niente no una minchia ok niente di niente va bene ok va bene va bene grazie vedi se c'è la gente poco gentile qua si fanno pubblicità mmm 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 ebbene raga andiamo a fare un giro da che ne so comunque quando canto le canzoni poi fa poi effetto oh oh va bene ragazzi a più tardi no io aspetto ancora dovrebbe arrivare k in teoria ma buono ok dai ci vediamo dopo ciao ragazzi ciao a tutti ciao ragazzi ciao a tutti oh piano oh che macchino ma chi è ne erano 5G di tubo buonasera ma scusi ma chi macchina è macchina macchina aldica tempi miei ma lei è scusi Filippo Manciafico come Filippo Manciafico si 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 molto rieto signor Manciafico papalado doni papalado piacere signor papalado una bella macchina complimenti mille ai ai toni signor toni si macchina macchina sono belle papalado guarda là ce ne sono due davanti la davanti dove ce ne sono mamma mia ecco vado 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 sei presenti dai della golf ragazzi bellissima ubbere mi fa male attenzione occhio che ci sono le scale si vabbè ma che cazzo eh toni adesso non posso abitare a nessuno vabbè vabbè non ti preoccupare vabbè prova a richiamare K ci chiamo K K stiamo venendo da te stiamo venendo si si stiamo venendo ma anche due ore fa era così vero è 50 minuti fa per la precisione poppo se è voluto comprare non ho una macchina se è voluto comprare il concessionario non è colpa mia c'è anche poppo ho capito va bene qua siamo arriviamo arriviamo poi c'è entrambi i miei mezzi qua fuori raga vediamo un pochino ragazzi stasera ci facciamo un bel rapello oh facciamoci un giro con sta ninja di momie che l'ha chiusa mi sa l'ha chiusa l'ha chiusa salvo grazie del like e buonasera ai ai mi faccio un giro col t max mentre ci sono va che devo fare faccio due impennate col t max bella grazie del like salvo oh ma comunque questa golf è bellissima ragazzi ragazzi sentite sto mangiando le castagne ok quindi ci prepariamo eventualmente è Danilo che sta mangiando castagne madonna madonna ma guarda le curve come le fa con una ruota sto t max è impressionante ragazzi francesco grazie del like e benvenuto in chat federica grazie del like oh piano piano oh madonna parcheggio perfetto direi ideale bella Giovanni grazie del like e benvenuto in chat poi che figata che esce il piede fuori per mettersi in equilibrio ehi anche da Milano io già ti guardiamo grandi grandi ragazzi un salutone ci vediamo giovedì giovedì ci vediamo Giovanni grazie del like allora è la tono hai visto anche da fermo ormai ma chi è tuo fratello eh si qual era la chiave del team max questa si buonasera Pietro benvenuto in live grazie del like benvenuto allora vediamo un po' senti la vorale buonasera maresciallo come siamo combinati tutto a posto mi sa che non sente ah minchia prova 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 buonasera buonasera tutto a posto come siamo combinati si abbiamo schioppato tutto minchia ho sentito ho sentito una voce familiare quanti soldi buttati al vento ma che minchia avete combinato minchia avete combinato capo niente siamo presi un attimo sto gioiellino è solo che ecco buonasera buonasera pop buonasera come stai tutto bene tutto bravo tutto bravo ti piace minchia ma è bellissima ah si oggi ho deciso di far proprio compere folli oggi mi sono fatto guardate dico in ordine di importanza dal minore al maggiore mercedes asmg la come cazzo si chiama gt60 trella una cosa del genere ma capito poi yaris ibrida per forza una utilitaria tranquilla per andare a comprare poi la seconda più importante è il ferrari questo qui che vedi è il primo posto smart brabus la smart brabus è bella smart brabus è tanta roba mostri il giocattolino tu dai per favore mostri te lo facciamo vedere vai lo devo andare a prendere mi sa è centrale cazzarola che te sei fatto che te sei fatto arrivo subito è tanta roba arrivo arrivo andiamo a prendere il pandino ma allora sperando che sia lì il pandino ragazzi non me lo ricordo vediamo facciamo gestione il garage in teoria me lo fa vedere si è al garage 3 allora il garage 3 qual è? il garage 3 il garage 3 garage 3 quale sei? quale sei? c'è la mia garage 3 eccolo lì è lì il pandino è lì che è costodito il pandino ragazzi eccolo è un grande Carlo arriverà arriverà quel momento quella è una cosa che va fatta con calma piano piano ragazzi ci arriveremo anche a quello assolutamente sì bella Simone grazie del like benvenuti in chat buonasera cinico come andiamo ma che cavolo ci fa qua il mio pandino perché è qui non mi ricordo Diego buonasera come andiamo tutto a posto benvenuto in live abbiamo novità bella Simone grazie del like fratello benvenuto allora il parcheggiatore è qui dov'è qui cavolo ci fa qui il pandino e mi dice nessun veicolo vedi e ora dove cavolo sarà non vorrei che il dissequestro a sto punto non vorrei che ce l'ha il dissequestro raga non lo so dove cavolo può essere mi diceva garage 3 ma il garage 3 non c'era andiamo con sta macchina del Kaiser proprio potevo prenderla una più lenta comunque forse no non potevo l'avevo messa al centrale ragazzi boh ci vado a guardare ci vado a dare un'occhiata magari è la ma perché l'anno mi diceva il garage 3 quindi non capivo però vado a guardare vediamo se magari è al centrale ragazzi se domani ah vabbè allora sicuramente non arriviamo prima della fiera io considero che parto giovedì mattina prestissimo tipo alle 6 e mezzo è il volo quindi non non arriviamo per la fiera vabbè dai fa nulla ho una pecarra chi è? ho la lapa eccola eccola avevate ragione raga buonasera grazie grazie arrivederci che ha detto raga non lo capisco quando parla cioè non giuro che non lo capisco salga mi vediamo un po' me la metto a dieta quando le vedi quando le vedi dopo di il cine va bene va benissimo va benissimo allora vengo a Milano uh grande Diego veramente viene a Milano grande se viene a Milano top di gamma va bene con immenso piacere con immenso piacere io considero che arrivo a Milano giovedì Tony pronto Kaia dimmi tutto senti io ho parlato però più o meno che cosa volete fare ma penso una gioielleria ok e perché è un po' tumaccio perché siamo tanti ok va bene ok questa quanto questa è cazzo arte tipo 8 9 questa è arte ok eccolo e allora che te ne pare altro che Ferrari Mustang BMW non di seccare non c'è paragone non c'è ma che cazzo non c'è poco paragone guarda questa mi ha battuto pure la Brabus ti dico ti dico questa che pandino appena me l'ho fatto vedere K mi sono sentito male è bellissimo coi sistemi di sicurezza quelli lì proprio all'avanguardia oh ma perché fa 160 fa 160 ma superate i 120 pop praticamente c'è vedi Padre P Padre P ma guarda lì che coppia ma proprio messi a fianco sono perfetti sono e si va a comandare le strade ma perché non riesco a entrare dentro la macchina javolo fa provare ragazzo è che sei abituato a pandino tu Pop te lo dico io i Ferrari sono un po' tecnologico qui è pulsante e qua non si apre ah la quale pulsante là ci vado direttamente con piedi di polco se non si apre e c'ho artrosi capito guarda apri 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 di nuovo ok vai eccolo è niente ma che cazzo oh dio combo live e code grande Andrea ci sta fra ci sta però il passetto lo fai è il passetto è questo che è il passetto la mossa fa la mossa quella la mossa si 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 guarda perché c'è la volontà c'è la volontà però no ma lo sai che c'è che mi ha preso il corpo da strega oggi ma è cascato mi è cascato passami mi è cascato aspetta la banda veramente diego ecco qua la 1 45 è bellissima la 1 impossibile darei chialla la vorrei pure la 1 io ora glielo dico poco non dico a k se me la fa avere una 1 bella armen grazie del like niente ma siamo seri ma che è successo qua ma non è che te l'hanno veduto te l'hanno fatto la troffa con sto ferrari oh frate mi hanno dato le chiavi sbagliate e dimmi vieni qua ma che cazzo ma a che fare aspetta che gli chiamo vediamo che dice ok mi ha chiuso vabbè io penso comunque tipo 11 e un quarto più o meno aspetta dipende da quando vogliono fare aspetta fammi parlare con k vediamo che dice lui guarda me quando si sleigh ma sai un orario orientativamente per fare quel fattore là aspetta no perché noi stiamo chiamando le famiglie devo contrarci appena finiamo vai prova adesso io un posto eventualmente pensavo alla pista là sotto comunque per l'esposizione mettiamola in fondo no ma ci parliamo ok 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 il pandino è troppo bello massimo il pandino è fantastico ragazzi io ho troppe macchine comunque da posare in garage meno male che qui c'è il garage personale ora le poso tutte dopo su tutte cose che poi me le dimentico le trovo a dissequestro puntualmente si la facciamo la facciamo più tardi raga alle dopo l'esposizione delle auto già come come poi le trovi doppie se le lasci minchia guarda lasciamo sì il pandino sì dobbiamo mettere l'adesivo dietro come la vedo ma dai chiamiamo la cura di sorella no devi scende vado a cambiare dai mi metto un attimo elegante che ci sono pure loro questo è l'outfit da rapa questo ragazzi questo è l'outfit da combattimento allora mi cambio e mettiamo l'outfit elegante new dai mettiamo quello con la camicia che mi piace un sacco i giorni con la camicia mi sto sentendo cioè Tony si sta sentendo suaccio ah Tony chi è oh dimmi tu c'è la mangiata a bere sì vieni vieni quanto ti dico niente niente stasera mi sento pazzo offro io no quindi sempre sempre pazzo sì sì stasera particolarmente più che altro perché non stanno andando le fatture mi secco a farmi pagare in contante non mi va preferisco sempre le fatture prova la ninja da ora la proviamo Enzo ci sta ci sta ci sta ora la proviamo bella Lucian grazie del like e benvenuto in chat buonasera buonasera governatore buonasera buonasera come andiamo a noi come va tutto bene ci hanno mandato qua perché hanno detto che lei ci avrebbe cantato cosa ci avrebbe cantato perché era Heidi Heidi ci hanno mandato Pablo per caso è possibile che è stato Pablo a mandarvi qua a noi ci hanno mandato non possiamo dire il peccatore è solo il peccato l'ambasciatore non porta bene esatto ho capito e avanti qua un Heidi eventualmente la possiamo intonare per pochi intimi con piacere con molto piacere buonasera buonasera devo dare ovviamente al direttore eccetera se ti va noi siamo qua al Yu Chang giusto Wu Chang Wu Chang Records si 365 ah ok ok va benissimo benissimo 10 minuti qua ok ok ciao e poi viene anche Pablo l'ha nominato ah sta avvenendo 10 minuti sta facendo venga accomodatevi accomodatevi ho messo manco la musica stasera il sottofondo lo mettiamo raga che dite allora ho cazzarola allora scusatemi eccomi qua e allora che prendete che cosa cosa c'hai da bere di alcolici eh aspetti che guanto subito abbiamo vodka direttamente dalla Russia va bene va bene ah avanti la prendo si 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 certo io prima di farmi lo sciottino di vodka mangiare qualcosa e un poco di sushi allora vi preparo si si anche perfetto allora prego un pochino di sushi ah giustamente dice stomaco vuoto la vodka può fare danni irreparabili è meglio evitare se possibile giusto due e tre opola ci siamo è uno scioglione a testa che lui più danneggiato di così non può diventare no può bere direttamente numero uno ok 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 perfetto mi fai pure me la fattura no no stasera ho tutto offerto stasera direi al governatore stasera offro io ah gentilissimo stasera offro io governatore non ne volevamo approfittare no assolutamente assolutamente non è che non ne state approfittando è un'iniziativa mia questa qua comunque lei mi sembra uguale in faccia a salvatore esposito preciso te l'avete presente salvatore esposito si si minchia ma è troppo uguale in faccia cazzo è vero si assomiglia troppo da qua uno che assomiglia a macco d'amore c'è anche e vabbè però voi vi occupate di un ambito totalmente diverso dai signori suddetti direi di sì è vero decisamente gli abbiamo pulito anche la fedina signor esposito ah sì eh sì tempo indietro aspettate giusto un secondo certo certo prego prego allora mettiamo un po' di musica dai dai mettiamo un po' di scela rivas dai facciamo gasare un po' ti facciamo un po' gasare ragazzi vediamo che cosa ci propone questa mettiamo stasera un po' di musica la Tyson grazie del like buonasera e benvenuto ok un po' più alta aspetta la metto un po' più alta non mi si è alzato il volume mannaccia la miseria 0.0 perché avevo messo virgola bella Dario grazie del like e benvenuto sera sera Dyson come stai tutto a posto? non mi servono gli occhiali qua dentro signori e signori presentiamo Tony un attimo da attenzione prego presentiamo il proprietario del locale Tony grazie grazie la volevate sentire Heidi volevamo sentire Audi la ripropongo questa sera già insomma un breve anticipo io l'ho dato a Pablo tanta Heidi con gli acconci 0.2 gli chiamiamo gli chiamano Pablo vediamo se in zona che a lui piace no tu ti chiama tutti chiama tutti chiama tutti eccolo qua fai festino illegale illegale fai festino illegale tutti quanti tra tanto non so più pulotto andrea andrea michael grazie di like Pablo Tony sono oh Tony ma senti una cosa se vieni qua al mio locale mi hanno richiesto esclusivamente Heidi perciò se vieni sto venendo tre minuti e sto da te allora ti aspetto allora ti aspetto mi piace anche forse wallace si si te lo porto più carico che mai va bene va bene allora ti aspetto avanti dai ciao 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 allora sta arrivando con pace wallace perciò lo aspettiamo dice due minuti e sono lì va benissimo va benissimo aspettiamo tutti dai ai 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 buonasera a tutti i nuovi arrivati in chat raga allora va bene va bene mettiamo un attimino la musica quella chill di sottofondo a questo punto raga ne approfitto e allora uno dove mi chiede eccolo qua mettiamo quella musica quella di sottofondo rilassante che è bella questa qua è quella rilassante che uno viene qua e via ma perché si vede così scuro dentro sto locale va bene aspettiamo ora si vede troppo chiaro non lo so ragazzi ci sono dei colori strani ultimamente dentro sto locale buonasera ragazzi buonasera buonasera non ho più numeri ah porca sentita mi stava arrivando pubblica in esclusiva la voleva cantata proprio bene 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 ah Tony ah Tony perché non mi assumi ti serve dipendente veramente sì beh io sono disponibile eh quando vuoi allora ti assumo anche adesso appa ti serve qualcosa se qualcuno si arriva subito dimmi tutto eh ci porti un'altra tre volte sì arrivano subito grazie mille aiutare la mia buonasera 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 è un no già comunicato ah va bene bevi qualche cosa sì qualcosa da mangiare e da bere lo renderei volentieri allora io facciamo a lei open bar a lei ma ho sentito dire che lei sarà il futuro sindaco sono il nuovo governatore ah già lo è sì già lo sono per me siete sindaci non siete governatori non c'è problema io vengo da Roma insomma a me eh si sente un filo d'accento un filino eh giusto un pochetto un tantinello esatto io vado a prendere qualcosa da bere e da mangiare certo poi se vuoi venire qua con noi che poi Tony ci delizierà con una canzone di sua proiezione ma è cala ormai ma tu l'hai sentita già questa qua praticamente c'è stato no Heidi praticamente c'è stato c'è stato un signore che gli è andato a dire al governatore dici che io so cantare Heidi e poi c'è il governatore la voleva sentire capito beh beh devo dire che fa delle performance e niente male grazie grazie devo dire devo dire allora ti raggiungo certo certo buonasera ciao buonasera allora come siamo consumati tutto a posto dovevo cantare la mia canzone preferita mi aspettavo mi aspettavo ti ho aspettato facciamo allas buonasera ho portato pure i padri buonasera 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 come va tutto bene oh padre tutto bene tutto bene c'è bisogno di un po' di fede desti tempi c'è sempre bisogno di fede ma quando vai pensa che ho appena rischiato la vita a me mi ha servato proprio miracolato sono stato che è fatto ho fatto un incidente con il ferrari lascia perdere ero rimasto per terra poi invece la luce del signore vedi che eh sì vede 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 sì sì sono finite davvero le vede il signore sì infinite le metate mi ha mandato mi ha mandato quell'angelo laggiù che mi ha servato guarda qualche volta facciamo osanna e neomelodica osanna e che 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 osanna e che 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 osanna e che 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 osanna e christo un signore che si può fare che ha benedetto con lui che che viene osanna e che 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 osanna e che 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 marcia Wallace ma me la può fare una benedizione del locale mentre si trova qua sì io mi sono fatto benedì la casa ti hai visto il locale una benedizione penso che ci vuole ma c'è un banco metto qua ma manate il pesce crudo e sushi e sushi e ancora ancora si muove ancora si muove ancora si è vivo vivo eh Dio vivo vivo allora questo ci mettiamo ma mo poteva darmi lo tagliate no aspetti lo spiego lo prendiamo personalmente noi ci vestiamo andiamo lì lo prendiamo con le mani gli diamo un bacetto lo tiriamo fuori dall'acqua lo mettiamo nell'acquario poi lo serviamo fresco e ancora vivo posso io sono d'accordo va bene che i ristoranti giapponesi ne vanno a pagare gas quindi insomma praticamente ci hanno cucina ci hanno banconi ci sono i fornelli e tutto però almeno tagliatelo no cioè purtroppo non abbiamo i coltelli mi dispiace a posto è la l'unica cosa che mancava nel locale quando me l'hanno consegnato sono avviscerati almeno no ma perché perde sostanza se gli leva le viscere padre come ti devi mangiare i babber grills esatto i babber grills se vede buttare l'interiore praticamente ci vende un coccolone padre li moltiplichi padre si deve mangiare anche la lisca soprattutto e quella è poi la vera sostanza quella è calcio come succedere avanti va ve la interpreto questa canzone va ve la interpreto vai allora metto stacco la musica qua allora questo è un pezzo che fui a dedicare a Pablito grande stimatore di questa canzone e a tutti coloro che negli anni hanno amato il cattone animato di Heidi con una revisitazione fatta a modo mio c'è un mondo fantastico c'è un mondo fantastico con un po' di 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 Grazie, grazie. E bravo. Bravo, bravissimo. Sei un grande Tony. Grazie, grazie. Bravo, bravissimo. È un grande. Fantastico, hai fatto ritorno a bambino. E niente, è un governatore, perciò che ne pare di questa performance. Ah, veramente, veramente bravo. Grazie, grazie. No, poi canti lì. Abbiamo capito, Teo. Grazie mille, grazie mille. No, me l'hanno detto molte volte, dice hai una bella voce perché non te la fai mettere nel disco, mi hanno detto. Io ci dico, meglio evitare che poi se me la mettono nel disco è problematico. Eh, no, però dovresti, eh. La prima o poi arriverà. Vogliamo due etària stasera, Poppo, qualche cosa ce la proponiamo? Eh, ritagli. Guarda, Dragon Ball mi è bastato, guarda. Ma cosaccio, ma cosaccio. Ma da sì, devo cantare. A piacere tuo. A piacere mio. Io non sono, come posso dire, non so per la musica. E poi per ascoltarla, che per cantare la gente. Eh, eh, eh. Ricordami che mi ha richiesto. Action Man potremmo cantare. Minchia, non la so Action Man. Forse io sono troppo giovane più Action Man. Action Man, eh. Action Man è bello preistorico. Che ricapita. Ma, dove minchia è? Ho visto un'apparizione tipo la Madonna che è scombasso. Ho visto la Madonna passare, poi è sparita. Eh, comunque. Si me l'ha detto, Gaia. Si, no, fra un quarto uro ci aspettano via a locale. Anche padre Wallace è un cantante via a locale. Ah, va bene. Anche padre Wallace, Tony, è un cantante. E cosa ci vuole dedicare, professor Wallace? Non c'è cosa ci delizia stasera. C'era... Il nostro amico Pablo che voleva sentire una canzone che gli ricordava la sua infanzia. E qual'era? È un segreto. È una sorpresa. Ah, va bene, aspettiamo a Pablo. È un chiamato, Pablo. È un chiamato. Era accanto? È un chiamato. Ok, I want to break free. Ok. Oh, I want to break free. Oh, 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 oh. Buonasera. Dottore. Buonasera. Come mica siamo combinati, tutto apposto. Oh, è così che stile. Meno male, ti sei riuscito a mettere una cosa di classe. Insomma, il colore non mi fa impazzire. Sicuramente non l'avrà fatto Gaia. Non l'avrà scelta. semplice si l'ha scelto lei vedo che cominci insomma è un po di amica sono come te senza fila la ora è però dico pure due dei mani ragione vabbè ma devo fare zitti scema e quindi mi diventi per il codino grazie grazie e allora come stai vuole sentire mai londano dagli occhi londano d'acqua allora vado a cantare salvo sul palco vada 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 da bere niente qua sono le sento le sento eccole eccole ah sono io ce l'avete che mi sono ripreso mi sento meglio già sono delle sicurezze la sentenza c'è appena parcia wallace si è messa a cantare campana venite qua belle papà ma raccomando facite il bordo la canzone è tutto facendo biglia con la mamma la sera come giocata strada ma che sta facendo biglia la sera è cominciata che la strada era paura la valigia fatta in fretta pensiero per tua moglie che non costa insieme a te bravo ma che c'è ma che c'è ecco l'occhio del creatore non aveva la ragione che partiva solo tu ma che sto facendo biglia la rivoluzione è un melodico e non ho capito e non ho capito per un po' medioque però è inaspettato è inaspettato bravo complimenti complimenti pensavo che stava cantando ave maria, padre nostro bravo bravo ne vogliamo un'altra un'altra padre un'altra pure dell'ave maria vede lei a proposito marione grazie del like ancora non l'abbiamo fatta la presentazione stavo pensando di fare un presepe vivente quest'anno io voglio fare a san giuseppe mi faccio il bambino benissimo che è rimasto io faccio il pasto brunino stavo pensando brunino un po' cresciuto o sandrino beniamino sandrino è più piccolo però di brunino facciamo i provini oddio si scannano un casting un fight club brunino ma vogliamo lavorare stasera finché io adesso aspettando arrivo ciò 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 eccolo qua c'è il volo aperto oh ming è finita qua ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta allora ci stanno ci stanno aspettando a 4 e 50 a 4 e 50 ma le già le macchine ce le ha esposte da qualche parte no 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 mo ci stiamo presentando il giro delle famiglie adesso va bene per ritirare la roba eh sì va bene ah sì l'ha già riparata senti fatemi parcheggiare sta macchina e mi prendo la mia e allora direttore con sto vestito con collo a mattone scoloroso tutto a posto questo veramente è un rosso compagnolo dottor va chiedi il Porsche andiamo con il lambo o cosa vogliamo fare? dipende 4 e 50 4 e 50 prendiamo qualche hammer no io con il hammer proprio ti manchi i pizzienti direttore proprio mi vergogna salire sopra l'hammer a sto punto andiamo con il pandino andiamo con questo eh ok oh aspetta la lupare devo andare a prendere è menuto è fondamentale senza lupare come minchia fatti grandi che me l'avete ricordato grandissimo e me l'hai ricordato Davide grande però ero dimenticata totalmente la lupare allora allora la lupara i colpi ce li abbiamo possiamo andare no mi dissocio dalla musica che mettono ragazzi ah no però forse era a posto quella musica che un'altra volta già l'aveva messa l'aveva cantata padre wallace si sta scatenando si sta scatenando ma pagate 6,7 di tararo ma che a far cosi che dici dove padre wallace che si sta scatenando sta cantando Piero Pelù Piero Pelù sta cantando vabbè senti devo lavorare andiamo 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 ci vado io ci vado io con Pop va a provarci un ogiellino oh no tranquillo ce l'ho anche io ti devo dire la verità Pop ah però non questo non c'ho questo modello qua ah ce n'ho un altro poi te la faccio vedere però questa qua ho avuto modo di provarla è fantastica ma no guarda a me mi ha impressionato la guidabilità si e poi ha una frenata spaventosa cioè assurdo però si pianta si frena proprio subito e ti dirò una che mi ha stupito la guidabilità è il pandino io te lo devo fare provare il pandino è micidiale guida bene è bene è micidiale micidiale il pandino vabbè ma il pandino è stile fratello vabbè è storia col pandino in tangenziale andiamo a comandare te l'ho fatta vedere a Brunino dici il panda armato ti sei comprato zio panda armare no questa è brutta anche panda a cagare qualsiasi cosa chissà questo brus cento per cento te lo dico io la conosco a memoria quella macchina vero grande salvo grandissimo grandissimo mamma mia che cazzo di destabilità è una cosa assurda è vero minchia si alza e adesso si è messo adatta terra noi gli perdemo qua che mi cos'è il tuo cazzo di mannà 450 allora non gira qua si penso che è qua sopra se si dovrebbe essere di giù 450 io ho detto io orcivico sono proprio l'incoglionito orq2 potessi ho messo male pronto ma no ma hai chiamato no e forse prima non mi ricordo ah si ma perché non so se te l'ha detto già gaia si nulla allora è quello lì si purtroppo a quando pare no come abbiamo abbiamo qualche cosa sembra ora la facciamo non ti preoccupare vai va bene ok ci sentiamo dopo dai un bacio ciao ciao a noi di come va pure su un sterato è micidiale te lo dico è devastante occhio però perché arrivare a mare non ci vuole niente e sacca che addosso è a un poco diciamo che ce l'ho il culo stretto proprio s'ha dato tranquillo sono sopefere professionista guarda qua sono male che sei un professionista se non ero in professionista eravamo persi a miseria costi perché perché mi spingo troppo oltre limite certo se si porta la macchina capito che dice popa sacca l'acceleratore ovunque buona che nova nova ma gliela papai ecco che lascia c'avevo un ferrari c'era una volta un ferrari siamo finito il direttore già si è piazzato l'ha sotto che dici tu? il direttore già si è piazzato l'ha sotto si apprende le telline sicuro si fa una spaghettata te l'ha tornata pulita pulita non mi fidavo mi ha fidato vieni in chilo o più le telline si si va bene allora riagganci che sono dal fruttarolo a date finocchi cipolle come sta? è sana è sana è sana si si che ha guidato la tua ferrari? si si vabbè provvederò partendo arrivare un momento ok direttore la gravidanza si è fatta di sette mesi qua no no quando è sette mesi siamo appena al secondo ma come va? al secondo ma che ha fatto? ritorna al futuro si si insomma sentite questo capello è bellissimo ecco quasi qui riporto un mezzo lì ma il poro Don Brunino che fine ha fatto? l'ho incontrato fino a ieri sera si si ma quello fa danni di mattina tu si pomeriggio capito un'altra volta mi mandò anche un messaggio papà sono stato carcinato un'altra volta esperienze esperienze di vita comunque fanno tanto si ormai mi sono proprio rassegnato faccio quel che voglio e ormai è grande si si sette anni sette anni e ormai si è ricala hai preso il motore ormai ha preso la via si si vabbè ma ha seguito l'ormedicito insomma eh lo fa il problema è seguirle nel momento giusto e nel modo giusto non volete tutte subito vabbè ma da pischelletti eravamo di cinque ero enti tanto adesso se vanno in carcere che gli fanno niente in momento del minorire poi hanno già 18 anni c'è pure la fetina penale di pulita e calli e tranquillo e con un po' di esperienze lo devo chiedere facciamo un assalto al blindato e niente manca a far così però c'è un senso ho parlato col sindaco prima gli ho detto se si poteva incontrare un privato ah è il sindaco nuovo è il sindaco nuovo sono due o tre giorni che è salito è salito è salito si si proprio per questo gli ho chiesto se lo diamo un contram privato io sento puzza che il vecchio sindaco è stamattina inguagliato con le forze dell'ordine ma gli è il po' l'ho spedicato eh si si ma quello ormai non mi ho finito non mi ho finito ha avuto problemi con le forze dell'ordine mi sa che sta un po' inguagliato di brutto tipo che ho sentito eh no non so persona oh gran pezzo di merda ma che sorpresina scusate che è successo io tanto ma ci hanno una millos che sembra che stai indagliato ma perché sa fa botte con quell' ma manca a fa così però oh 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 ho capito oh 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 no 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 ma sta bene si si tutta un po' non sei preoccupato perché sta giocando sta giocando sta giocando no è che gli ha insegnato ah ecco lì gli ha insegnato il trick quello lì che ha insegnato che quando uno gli punta la pistola lui fa finta che è in motto capito ah capito ma cazzo mazza prova è bravo si 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 è bravo si ma quanto può rimanere così quanto può rimanere così è illimitato illimitato si fin quando non ce ne andiamo fino a quando non gonfia scopia e poi e poi eventualmente ci abbiamo il bigattino pronto per andare a pescare direttamente qua da quello che ho sentito sta inguagliato un attimo con le forze dell'ordine che sembra l'hanno indagato buttato buttato una milla assentera sta inguagliato perché l'hanno messa sotto indagini per il fatto del governo che sembra che era corrotto c'è che ha fatto non ho capito che cazzo ha fatto capo indagini mafiosi al governo che sembra che era corrotto che ha provato a corrompere alcune persone della città è stato corrotto no no ha provato a corrompere e lui ha provato a corrompere ah ok bene chissà chi ci ha messo in mezzo a sto giro brutte persone ma ti dirò ti dirò perché secondo me secondo me sono le minchiate che aveva il vizio di fare da solo vuoi azzare ora c'è bisogno c'è ogni tanto aveva un colpo di testa prendeva un mazzetto le dava alla gente tu mi devi dire tu mi devi fare oh comunque forte sta aschio ma voi lo vedete qui rega io lo vedo qui ma serio sì probabilmente già sarà andato lassù in paradiso eccolo sta qui è tornato lo vedi come è bravo fa fin da è qui è mamma mia quanto è forte è ancora caldo ancora caldo sì quindi non è morto no si sente che vivo non riflettiamo andiamo a conclusione affrettati c'è un buco al centro di testa ma i cani sono resistenti sì sì i bracci ma managgia la muttana i cani ti residenti io lo so e di a me adesso e comunque ti stavo a dirlo e sembra che spedicato aveva il bizzietto di prendere mazzette e darle alla gente e dire tu ora lavori per me mi devi fare questo mi devi portare sti informazioni ma che cazzo ma che sei magari un altro capocartello ma che cazzo ma io mi dissocio ma io mi dissocio ma che fordizina ma che fordizina mi portai informazioni benvenuto adesso non ha capito come un caso era un po' strano pure quando andavamo incontrato devo dire e vabbè ognuno pronto eh no raga noi siamo già qui e vi aspettiamo guarda dove è te lo faccio vedere fra eccolo qua il pesce eccolo ma anduccio stasera dov'è servizio non c'è non c'è molto 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 voglia 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 toni pappalardo nino d'angelo 4 5 4 5 0 allora pop ma tu 4 5 4 5 0 4 5 tu quando quando parti stasera intendi no no quando parti per quel viaggio di lavoro ah è il 24 a mattina prestissimo ma è pure io ma quando arrivi no scusami il 25 a mattina ah ok c'è tipo il 24 a notte per farti capire si ah ok 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 te invece? io il 24 presto 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 cioè il polo ah te vai col il broom broom non tocca la macchina no io con con l'aereo con l'aereo eh ma io ancora non ho capito come siete organizzati di caverità ho chiesto ma ma che cazzo ne so ma non ce ne ho cioè mi vedesse mi incontrasse ma fra di noi cioè è una cosa proprio fra di noi eh infatti si l'avevo capito però immagino che ci vadano più persone quindi se vabbè sicuramente penso qualche cosa boh anche perché siamo ospiti a quanto ho capito in un paio di stand quindi penso che ci andremo in gruppo no? penso di sì penso proprio di sì boh vabbè vediamo vabbè se teniamo in contatto sì 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 ok oh ma questi che cazzo hanno deciso? niente mi hanno appena chiamato mi hanno detto guarda stiamo aspettando l'ultima famiglia che c'è un problema la polizia ha detto vieni poi l'ultima famiglia vai li prendi e me li porti più tardi io non ti posso aspettare tutta la serata eh miglia direi eh dio buono che cazzo hanno deciso? cazzo cioè è undici e mezza fratei io tra un po' vado a Piorbolo capito? c'è l'aereo c'è l'aereo comunque questa sera ti sei fatto un Ferrari mi sono ammazzato dai risalti ci sei rimasto una volta col Ferrari no ma ti dico la verità mi sono pure innamorato se ti dico la verità la sincera verità cioè io sono stato risvegliato dal bacio dei momi cioè vedevo di ragazzi cioè senti quel profumo le sue labbra morbide cioè sono morto un'emozione unica un'emozione unica ragazzi io me ne sono sentito male ma io non so parlare d'amore come dottore un'emozione oh non hai un ucci eh stessi qua no devo andarla a leggere sapo ripeti Pop quello che hai detto ma è un ucci di cazzini a tutti quanti cioè ma io non lo so questa famiglia eh ho capito questa famiglia questa ha già mandato un destro in faccia questo motivo è bonte famiglia che devo fare ho capito e famiglia cioè ma non so ecco la via ma sono convulsioni in volontà allora dottor io non so se è una cosa normale questa cioè allora mi è venuta quando ho fatto il botto allora che stavo a morire ha un nome no ma questa è intesa la cosa ah ok va bene la discussione io me ne vado io non lo so posso parlare cioè io non lo so comunque propongo di mettere le macchine qua con le luci accese proposta spassionale come parli che le provi stasera cioè guarda allora dottor a me devi spiegare una cosa cioè io stavo rischiando la vita ok sì mi ritrovo cioè un angelo veramente un angelo che mi fa la respirazione a bocca a bocca apprezzo questo cioè penso mi sono risvegliato solo per lei e quando mi sono svegliato l'ho ringraziata per questo cioè lei mi ha dato un cazzotto sì perché scusami io non ti ho fatto piacere bocca a bocca però ti ho ti ho fatto il massaggio al petto quindi ho capito però cioè nel senso no tu ti sei incazzata quando mi ho fatto un complimento a momi cioè che vuoi non fosse stato per me con l'aria che ti metteva in bocca ti compievi soltanto di esplodervi quindi dicevamo io sono stato spiegato da sto angelo e niente ragazzi ma rapi per cuore ma dimmi la cosa ma ti piace molto porca puttana no ma è stato amore a prima vista cioè lì anzi cioè è proprio stavo a morire un po' di fumene cioè è stato proprio che cazzo fai oh oh ahio che penso io magari chiammi te ma che ci siamo dieci oh ti devo parlare cazzo come stiamo in questa situazione oh e niente le comite ai 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 minchia ma dalle tete modere è una cosa k ma ci penso io ma ne è che siamo dieci anni oh ma no io mi dissocio io me ne vado a dire basta ho finito ma c'è ma no ma la so bruciata così cioè questa pensierà essere un co***o ma che cazzo stai a fa' kk ma il grande sommo pepe ma io guarda ti ha comunicato qualcosa di che tipo aspetta ti mando una cosa ok ok ma la solito davanti così dico ma che è eh niente ecco ma wow pam sono di svebrambe insomma sì poi io sono uno molto distaccato di solito capito non è non so un tipo preparati ah perché questa è una cosa che se veramente tu mi fai arrivare una cosa del genere io potrei potrei svenire cchia attenzione no è qualcosa che ecco ti ho mandato nell'applicativo una cosa vuoi farmi vedere cioè se tu mi riesci a fare avere quelle là che io faccio le corse allora ti dirò ora vedo va bene però la certezza che c'è ce l'hai nella 2 ti vedo vedi che puoi fare a buon intenditore poche parole sì e niente io ci tenevo a farlo vedere immagina 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 soltanto quello che potrebbe fare va bene vediamo alla fine nelle persone c'è sempre più di quello che vedi no ma forse da te che cazzo sta succedendo no no sta prendendo una macchina con i fari qua che non vedo un cazzo che è successo no praticamente c'è pop che a quanto pare a quanto pare a pop piace momi ho carattere di merda non sono una persona che chiama so fatto proprio così non è che ci tengo una persona però la evito capito la evito apposta non so non so come spiegate un po così un po c'è un sacco d'affari a cui pensa fra e questo è il fatto non lo so però ci posso metter mezzo pure una questione di cuore e manco se lo cagliano non se ne fa scappare nessuno ma che è ma che è ma che è sta cosa che ogni volta come ve lo spiego via cioè sopra viola queste qua sono dei led che praticamente vende un bambino ne ha procurato pablo ok fighi stile si wow si si e che cazzo è perché top cioè che cazzo perché un tend un il mio nome d'arte Tony Pandetta ah ok si Tony Pandetta quando io canto una canzone ma che è successo ma che so sti segreti di famiglia Tony Pandetta ma nella pagnotta ma come mi chiamo perché spondano a tutto bene bene ma che ci sta che ci sta senti questi qui ci hanno fatto aspetta troppo frate io effettivamente ero ad un certo punto proprio vaffanculo gli spariamo a tutti sono feburi è fatta la notte ma che siamo combinati comunque guarda K oh io questi cambizzo te lo dico io voglio sparare io vi prego da quello che so ci vorrebbe di qualcosa di molto molto importante se lo capita oh io non ce n'è covid non ne parliamo che mo' ce ne siamo usciti ecco 8 marci io mi sto addormentando qua direttore Antonio vetti a fare una corsa io ma ci ho scassato cazzo 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 oh però dai non mi pare manco corretto qualche appuntamento dove mi chiedi sto prendendo a chiamarli ma sono occupati c'è nel senso c'è pur voglio dire si si resiste a tutto no ma sta bene è veramente addestrato bene ancora sta fingendo ma io la vedo qua si oppure io non la vedo proprio bene va beh comunque è addestrato bene nel senso si si è proprio è fantastico aspettate perché noi mi stanno un attimo a girare le palle che è successo ci spariamo a tutte quanti ti prego dimmi di si ma è esattato che si mi chiamati ho detto va beh ma anche stiamo gli ho detto di venire subito qui prima ho detto stiamo caricando la roba mi devi dare il tempo a me mi sento preso per il culo vedete un attimo voi come ti sentite pronta ciò ha detto se volete venito al 999 a 990 dove c'è il magazzino e ci vediamo lì certo come no va beh che va beh però io mi sento preso pure pure io pure tanto sto pensando pop è che ha piato è piato un collesso un poca più un coccolone pop ti ha preso il coccolone eh ma hai sentito niente di quello che ti ho detto eh sì se vogliamo farli da un colpo di chiamata te le gambizziamo se vuoi ti do il numero così ci parli eh ma che cazzo ci devo parlare cioè questo ci sta da sparare le sue ginocchia sì c'è poco da parlare la coppia di accetta c'è raga è notte che cazzo stiamo a fare qua non so mi sembra sembra che stiamo a fare guarda pure l'aschi secondo me si è messo proprio a dormire cioè ma si c'è le bandette di sigarette qua dottor voglio chiamare te voglio chiamare te per chizia perché se no io mi devo andare a far ma comunque che so tutti sti segreti in famiglia ogni volta se si è sposta parlate le spostate parlate che so tutti sti segreti segreti dall'alto segreti coleali bravissimo capisco 168 finisce il numero che tempistica mi fai qua la canzone non mi ricordo come si chiama to oh andate che passa Aspetta, ma quando ho un giocato Chietto, se ci sparo nelle ginocchia con questo qua Praticamente che le taglio in due le gambe Sì, molto probabile Senti, conosci una canzone che si chiama Tu si na bambola Eh, minchia è una canzone antica È tipo Tu si na bambola Ma non lo so come che fa È un'antica, penso Il cazzo fa da conoscere tutte queste canzoni Non lo so, ma è una di quelle proprio vecchie Però è proprio, non è che è no melodica quella là È proprio musica napoletana quella proprio Ah, ok I want you break free Questo è bellissimo I want you break free I want you break free Tony Fammi provare un attimo questo No Prova sul cane che lui sa fingere bene I want you I want you C'è chi l'ha scritto su Google e chi mente Ciao di me I want you E te esci, eh? I want you I want you I want you Provate a scriverlo su Google I want you Mamma mia che sbadigli stasera raga Mamma mia, mamma mia A te, Tony Con questo ne voglio ambizzare M***a, ma che m***a è sto gran coso c'è? Ma no, m***a mia Ti vorranno uno serio con questo coso qua in mano E munizioni ce n'è? Sì, c'è un caricatore 9mm Ah, sì, 9 serfono Ah, perfetto M***a, bellissimo se serfono Vediamo come spara M***a mia, chi sei pericoloso M***a 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 Sì, sì, Leandro Sì, sì Airpop c'è la sua 44 A 44 ci sono buchi di un certo livello Vediamo se la finisco di giocare Perché a me mi stanno tompendo il cazzo Già per quello che stanno facendo Ma non mi pare non male Ma chi rispetto è per le consegne? Eh, stanno arrivando Stanno arrivando Ma che cosa ci devono dire? Scusami Allora, uno ci devono consegnare la roba Due Vediamo cosa ci vogliono dire Perché ieri abbiamo parlato con un ragazzo E ci ha buttato una mezza idea Che c'hanno questi qua in bar Ma vediamo stasera quanti sono messi per dirci per noi Che mezza idea c'hanno? Soldi Soldi sporchi Per quel sospetto che ce l'avevi che mi hai detto? Eh, non è un sospetto Ti dico, ieri ce l'ha detto un ragazzo Ah, ok E quindi ci vogliono informare? Ma che le stanno reiterando? Io lo spero Io lo spero proprio Perché per me va bene tutto Come ho detto Se vuoi una cosa in città vai e te la prendi Fino a un gradino Arrivati al gradino nostro Devono fermare Però noi dobbiamo essere avvisati dai movimenti Ma infatti mi sa che prendo una mostra I movimenti che possono portare a noi danno Quindi quantomeno ci avvisi Se ne ha un posto di far usare L'SMG Vi dico di usare il pompa Ok, allora senti, famo così Non gli dimmo niente di ritardo Li famo parlà Cioè famo di tutto quanto Ritiriamo tutto quanto E poi non accoppiamo due Ne accoppiamo due Due No, no, no No, no Gli dai Gli dai la metà dei sordi E io Quando io dirò la frase Questi qui So parecce fatta Aspettare Prendete solo la metà La coppa di tutti E se ne andiamo Ottimo Tutti 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 No, no Le lasciamo No, no Nel senso Certo Asciacchiate Tutti Asciacchiate Sono d'accordo Non sono un po' troppo Dovrebbero presentarsi solo i capri Oh, io non dico niente Tu quando gli dai i sordi Che ne dai direttamente a me Da e lui ti dirà Perché così poco E poi ci penso io Allora, madonna A distanza Signore Minchia Lei comincia a disattivare Già da due chilometri di distanza Mi preparai prima Capito Buonasera Buonasera Prego Potete andare Buonasera Scusate l'attesa Ma purtroppo Non dipende neanche da noi I ragazzi hanno avuto Alcuni dei problemini Sia tra di loro Che con la polizia Quindi alcuni erano arrestati Insomma Un po' di casino Senti Come sono andati a fare Buonasera Allora Prego Quelli dei rosa Delle barbie Li consegneranno domani Perché hanno avuto appunto Un problema con la polizia Buonasera signore Diciamo che hanno Sono andati tutta A nanna Prego Sono andati tutta a dormire Non so ora cosa è successo Problemi di caffè E invece Per quanto riguarda Gli altri ragazzi Quindi star tra settimana Ci daranno doppi Esatto Per il momento Mi hanno consegnato 17 kg Gli altri 3 kg Li stavano processando E me li consegnavano Ho sentito Che quelli lì Che non volevano raccogliare Fino hanno portato 20 kg Eh sì 17 kg Quasi 3 kg Li stavano facendo ora Stavano andando Proprio i campi ora Bene 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 Ci avete novità La verità Qualche novità c'è Diciamo che Parlando con tutti i ragazzi Per strada Si sono lamentati un po' tutti Del tasso Della polizia soldi Della quantità Più che altro Non del tasso Della quantità Da portare Perché noi eravamo rimasti Eravamo fermi Che ogni settimana Dovevo portare 10 milioni Invece questi signori Hanno ben deciso Di Farsene consegnare 15 Giustamente C'ha Le fetine Penali sporche C'ha che si devono Dividere pure Per il business Che ci appartiene Questi ragazzi Si trovano un pochettino Spremuti Della cosa sinceramente Se devo essere sincero Mi do un po' fastidio Perché se loro Pensano che Devono spremere i ragazzi Per Invoiarli solo Andare a fare rapine E tirarsi Diciamo L'acqua nel mulino loro Questo è un problema Per me Che significa Che i ragazzi Poi non vanno a raccogliere E quindi Parlando con i ragazzi Abbiamo preso Diciamo una decisione E questa è una cosa Che volevo portare Pure a voi Davanti a voi Che molto probabilmente Succederà qualcosa Per prendere noi In mano La gestione Della polizia soldi Ma anche Che raggondete voi Scusate Mi sentito Quella parola Come io a voi Ho imposto 10 kg Io allora Ho imposto 15 milioni Se ricordate Per favore Come io a voi Vi ho imposto 10 milioni Io allora ho imposto 10 kg Io allora ho imposto 15 milioni Ah quindi è una cosa Imposto da voi Ovvio Perché se ricordate bene Quando eravate delle gang A me alla settimana Mi portavate 10 kg E 15 milioni Proprio 10 milioni All'inizio Poi siamo passati A 15 Se ricordate Ok Allora diciamo Che È un discorso D'ora che devo fare Con voi Voi dovete pensare pure Che questi ragazzi Non possono fare Dalla mattina Alla sera Rapina Anche perché Ci sono problemi Di polizia Problemi Di Impegni Fuori città Poi scusami Se ti interrogo Un po' zio A sto punto Ti dico una cosa Io Se tu Stai dicendo qua Che È una cosa Imposta da voi Fatta dei 15 milioni 15 milioni Non sono 17 Perché io ho sentito pure Che hanno Avuto il coraggio Di chiedere 17 Ora Persone che mi hanno Consegnato soldi Per una settimana Allora io qua Vedo una cosa Vedo un problema State a parlare Di una cosa Che non è mercato vostro Però Deve pensare Se il loro Esatto Intocca il nostro Ok Allora Voi Potete fare quello Che cazzo vi pare Se vi volete prendere Quel mercato Voi potete pure prendere A me me ne frega mica Un cazzo Basta che a me Non mi smette mai Di mancare L'erba E i soldi E i soldi E ne parliamo Ok Ma non è competenza vostra Questa Ma la famiglia Che cosa Scusa Fammi finire Parlando Prima vi prendete Il carico Prima vi prendete Il compito Se ci avete Palle Se voi volete Prendere Quello che cazzo Mi pare a voi Una volta E voi siete preso Venite da me E mi portate il problema Adesso Avete Stato a far passi Per lungo Dalla gamba No no Il problema Ve lo pongo ora Perché ripeto di nuovo Forse non è arrivato bene Che intacca il nostro Io ti ho capito Io ti ho capito Perché tu dici Che le persone Per fare le rapine Non riescono a farti le Giusto Esatto Perché Ho capito Da 5 rapine Ti dico Ok perfetto Io però ti dico Una cosa Tu dai Tu e 10 kg Quanto guadagno Dai miei 10 kg Un po' Non lo so Non lo so Non lo so Quanto guadagno Un po' Un po' Esatto Secondo te Per noi Per chiedere 15 milioni Grazie Del like Loro Non hanno il vostro Stesso guadagno Da dove noi facciamo Le cose Uguali per tutti Ma io allora Quindi tecnicamente Dovrei Anche la vostra Richiesta Ma non c'è problema Ma non c'è problema Se questo significa Andare incontro Se questo significa Andare incontro All'esigenza Dei ragazzi Perché ci sono Problemi di polizia Problemi di impegno Non si può lavorare Ok Voi lo sapete Che noi abbiamo avuto Pure problemi Per andare a processare Perché non c'era C'erano problemi Di polizia Abbiamo avuto problemi Tutta la settimana Ok Quindi qua Il discorso Si sposta Su un piano diverso Quindi non è L'incapacità O il fatto Che i ragazzi Non possono I ragazzi Non riescono Per altri motivi Anche Il problema È diverso Perché L'imposizione Di 15 milioni 10 chili È Diciamo così È base Scusate Ma il problema Dalla polizia Ma il problema Dalla polizia È un problema mio Il problema Dalla polizia Questa è una cosa Che dovete gestire Noi Perché io Dico No Il problema Diciamo che non è proprio così Non è proprio così Per me Voglio mettere tutta K.O. Questi sbilli Che è successo E allora Quali sono i problemi Che la polizia Hanno avuto problemi Con le centrali di polizia E si sono licenziate Parecchi poliziotti Capisci E quindi diciamo Quando sono 15 milioni E 10 chili Ci metto quelli 10 chili Diventa un po' un problema Perché poi in una settimana Fare 15 milioni E 10 chili Diventa Un po' Pesante Pesantuccio Allora È semplice Allora Quando manca la polizia La polizia Ci deve sta Capito? Capito C'è questo il discorso È giusto È normale Sì sì Questa è un'altra situazione Cioè Dovemmo parlare qua In questa sede No Appunto per questo Che ti sto a dire Provede prendere Se tu a me Mi porti qua Il problema della polizia Io ti dico Che non sei capace A affrontarla Ma il problema Non è L'affrontare la polizia Ma è un problema superiore E allora Questo qua Lo dovete portare In un'altra sede Questo problema Sì 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 Capito? Sì sì Ma il problema Diciamo Il discorso è cominciato Dicendo che 15 milioni Erano assai Perché pensavamo Essendo fermi Noi 10 milioni Che era una cosa È stata imposta Da quell'altra famiglia Noi 10 milioni Benvenuto nella ferro Una volta che poi Mi rispondete Che è stata imposta Da voi Io vi dico Signori Attenzione Perché c'è un problema Di fondo Che I sbirri Diciamo si vedono Con cannocchiale Quindi diciamo Diventono Un po' gioppi Con la curiosità Sì La famiglia Ti ha portato 20 kg C'è l'ha fatto Sta settimana Fa 20 kg Mancano Duchi Di Ma da fa 18 Da fa 18 Sì E ha portato Anche i soldi sporchi Non l'ha portato I soldi sporchi Non li ha portati Vabbè Ti farò sapere più Tantinamente Però la trovo È riuscita a farlo Eh sì Però di soldi sporchi Ne hanno 5 milioni Perché Siamo stati là Prima di venire qua Ah E come che voi Già sapete Informazioni Di sporchi Perché 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 Gli abbiamo chiesto Raga Prima di iniziare una guerra Siete sicuri Di soffertarla Non è questione Di iniziare una guerra Perché se Il business Diciamo Si abbassa come tasso Per me possono rimanere Tutte le cose Per come sono Perché questi ragazzi Sinceramente Non ce la fanno E io non voglio Che si intaccano Né il business nostro Che è il business Degli altri Della tua famiglia Quindi Una volta che voi Mi state dicendo Che il tasso L'avete imposto voi Io alzo le mani E vi dico Signori C'è un problemino Di Ripeto Questo qua Però è un altro problema Cioè questo qua È un altro Discorso Poi ci pensiamo Cioè nel senso Questo qua Verrà risorto Se è così Verrà risorto Grazie Ovviamente Proporzionato Ovvio Il mio discorso iniziale Non so se è stato capito Se voi mi rispondete così Questo discorso Mi dici tu Che verrà riproporzionato Annulla il primo Perché il mio discorso Appunto Era che Se era una cosa Imposta dall'altra famiglia Noi ci volevamo Prendere il business Per impostare I 10 milioni Settimanali Però una volta Che è una cosa vostra E io vi dico Questo problema È una cosa Che dovete risolvere Cia piccoletta voi Certo Non c'entrano niente Ragazzi Ma ovvio ovvio Questo qua Ne andava parlato Sono due cose O se leva Vabbè Nel senso O se poi raccoglie sempre Oppure Esatto Eh certo Ovvio Ovvio Questo è ovvio Ma poi questo qua Insomma Ne parlerete Andrete a prendere un bel caffè Raga Vi do una notizia E poi comunicherete Anche alle altre famiglie Ok Da questa settimana Fino a quando Diciamo Se la polizia Non assumerà Ove agenti Le consegne Saranno dimezzate Ovviamente Se loro riescono a portare Qualcosa in più Meglio per loro Ma Perlomeno Non intaccheremo Il business Di entrambe le famiglie Quindi 5 e 7 e mezzo Sì Ok Penso che Questo sia fattibile A voglia Dai 7 milioni e mezzo O a oia Ma dicevano a farne 10 Se loro riescono a fare di più Nessuno gli dice Di non farlo Però perlomeno Le consegne base Saranno dimezzate Lo sai più che altro Sì che cosa succede Comunque fino a nuovo ordine Giusto Siccome Scusate Siccome Se non si fa in questo modo Come mi sembra Una soluzione ragionevole In quel modo Come era prima Succede che Stanno poi talmente accaniti Talmente arrischiano Talmente hanno la cosa Che devono appunto Raggiungere l'obiettivo Che Sì Per fare pulire la fedina A due gang Capisci Perché io non li lascio così Siccome loro Comunque Quelli che guadagnano Gli servono per lavorare Capisci E pure Anche compito mio Comunque questa è una cosa mia Di rispetto Salva guardarli Salva guardarli Però capisci bene Che è un buon casino Già sicuramente È vero Danilo È vero È vero Sono d'accordo con te Che Voi Tutelate le vostre famiglie Ok Ma ricordatevi Voi siete sempre Il dinosoro di loro Attenzione Appoggere la mano Nessuno vi dice Che non dovete farlo Però attenzione Appoggere la mano Perché adesso Viene chiesto questo Magari voi Le avete anche Non ci hanno chiesto nulla A dire la verità È stata una cosa Iniziativa nostra Perfetto Però La prossima volta Potrebbero chiederle Cioè Attenzione A scindere bene le cose Sì Ma questo non è un problema Assolutamente sì È proprio per questo Sì ti posso dire una cosa Proprio questo No ci dobbiamo Guardare Perché noi ci mandano Guadagnare soldi Sia a noi che Quante gang ci sono In città Sì Quattro Cinque Cinque Ok Se sono cinque Sbarra Sì Ok Sbarra Diciamo che Sbarra sei Non lo diciamo Facciamo finta che sono cinque Tre di queste Godono Del nostro rispetto Quindi O dico un motivo Cesarazzi Assolutamente Assolutamente Io non Non parlo Attenzione Non travisare le mie parole Io No per farti capire Sono molto molto mirato Per farvi capire Che ci sono identità Di genere Che vanno rispettate Si ci vuole Fabio Nel momento in cui Potete dare una mano Per far Favorire Gli affari Della città Ok Ma non mischiate le cose Perché altrimenti Si va incontro a casino No 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 Però sai zi Quando quando alzi il telefono E praticamente ti arrivano 15 persone pronte Ad aiutarti Significa che Qualcosa di buono Stiamo facendo Assolutamente Nessuno mi dice Che non è fatto bene E questo è in risposta Allo zio K Che poco fa Ha detto una frase Siete sicuri di Voler iniziare una guerra E saperla affrontare Questa è in risposta A quello che ha detto Lo zio poco fa Le vostre Le vostre referenze Quasi sempre Però gli dico una cosa Grazie del like Ce ne possono essere Pure 20 famiglie Ma la bibbia va letta Sì sì Assolutamente Capisci no Da dove volevo arrivare Sì sì È giusto per questo Poi ovviamente Voi siete liberi Di fare nei limiti Quello che Esatto esatto Nei limiti Certo sempre Nei limiti Comunque Come detto prima Ne consiglio Di mezzate Fino Ma io non posso Appena avremo notizie Da centrale polizia A nuve Un polizio Si ritroverà Ai regimi iniziali Va bene Ci comunichi Tu zio Sì sì Certo Ma tanto Come vedete Se preferisco essere Sono stanco Che ho dormito Tre ore Stanotte Vi giuro Tre ore Semplicemente Questo Tre ore Sono operativo Da stamattina alle 8 Comunque Abbiamo portato Tutta la roba Poi viene da prendere La monster Non so se c'entra Ci stanno davvero Tanti gioielli Vabbè I gioielli Se la vede Ve la vedete Con voi Sì I gioielli Iniziate A dare Al prossimo Fatemi Ce l'avete Caricato Tutte In una macchina Grazie Mi faccio Un conto Sì Aprite La droga Mettetela tutta Nell'hamborghini Invece Ok Ok Sì Ho pure Come si chiama Dove me Ecco un buco apprendato È chiuso È chiuso Sali 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 In macchina Sali In macchina Sì Sì Riaprilo Riaprilo Vai Aspetta che mi faccio Due conti E vi dico Fai conto che C'ho due macbook Addosso pure A posto Va bene No non è vero Aspetta ce l'ho qua Su quest'altra macchina Aspetta Vai vai Allora ragazzi Facciamo dei conti Calcolatrice Alla mano Calco Calcolatrice Eccola qua Allora Dobbiamo prendere Il listino Prezzi Allora Allora Vediamo un attimo Che prezzi Dobbiamo fare Ragazzi Allora Non è vero Non so che fino Hanno fatto Quei due macbook No no Da solo Ho dormito La mia ragazza Abita a casa sua Fra No no Se ho dormito poco Regà è perché Quando stacco la live C'è un sacco di lavoro Da fare dopo Non finisce il mio lavoro Appena finisce la live Anzi Allora 1491 Per Questi cosa sono Gioielli 1150 Uguale 1.714.650 Me li devo segnare Da qualche parte Allora 1.714.650 Più Poi poi Le collane Quante Madonna Ma c'hanno troppa Rob Vabbè Rimani Rimani Un attimo De qua Io vado Un attimo All'altro Sono 95 Per Ti serve una mano No no A posto Mi sto facendo il conto Non vi preoccupate Allora 95 per Che dove sei Collane di perle Dove è dove è Ti lascio qui Vuoi una mano Sono 760.000 Niente Mi posso più muovere Ok No Più Ok Macbook sono 10 Sono 12 Macbook Io addosso Non ce l'ho Vabbè 10 L'ho andato Ne sto contando Sì Conto ne 10 Mi sa Con la scelta Vabbè Ti conto Ne 10 Più Un po' Quello amico mio Sempre presente Grande Andrea Grandissimo Grandissimo Fra grandi Grandi Raga Breve si riparte Operativi al massimo Allora Diamanti Diamante Quanto è il diamante Sono 85 K Per 5 Sono 425 Posto Più Rolex Sono 6 per 60 K 360 360 60 1 2 3 E più Gli anelli Che sono 3 Per 120 Mila Sono 360 Mila Ok Mando il messaggio Così mi resta Lì in chat Raga Mi faccio la somma E via Allora 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 1.714 650 Più 760 1 2 3 Più 1.250 1 2 3 Più 425 425 1 2 3 Più 720 1 2 3 4.869 A posto Tanta roba? Come? Tanta roba? Buono Buone Ok E allora Direttore Ho fatto il conto Di là Quelli sono 4 milioni 8 e 70 Scusa Pronti Tono Che livelli siamo? Sono In questo momento Sto ritirando Un po' Di roba Di quella Di gioia C'è un grande A posto A posto Tu che stai facendo? Io ero io al tuo locale Ah io un attimino Non ci sono Vai tranquillo Vai tranquillo Vai tranquillo Vai tranquillo Va bene Hai saputo nulla Novità di quella roba? E no No Per il momento no Per il momento no Ora ora ti aggiorno Tra poco Che sto facendo un lavoro Un secondo Va bene Vai sono Aspetta Tra poco Un bacio Ciao 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 sono Cosa? Aspetta Che forse ho sbagliato È vero Oh Dimmi tutto No dico C'è corte basse Sì Te usa il carne mozza Che sono parecchie Aspetta Aspetta Perché C'è qualcosa Così nemmeno Come procede In che senso? Quando ti ho detto 4.8 4.870 3.870 4.370 3.870 3.870 3.870 3.870 Ma te li devo da io? Io sono scoppio Direttore Ce li ho io Tutti questi soldi Ma tu li hai puliti Noi li dobbiamo dare puliti Altra ultima volta K puliti me li ha date Quelle da dargli C'è sta tutto Un attimo Vai Dagli i soldi Ah non so se gliel'hanno detto Sì 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 Mi hanno detto Il capo della città Ancora sono molto lontano Grande Enzo Tra pochissimo Vado su Venito Grazie Dagli un attimo Tutti o la metà? Eh Domanda Una domanda Una domanda Importante Ti devo fare Oh Dimmi tutto Allora io Per quanto riguarda I gioielli Gli devo 3 milioni 8 Che li devo dare Tutti o la metà? No Gli andiamo Gli andiamo Solo noi A metà Dai Ok O se no Devo dire Che hanno lavorato Bene Sì Sì Devo dire Che Sono un po' Pochini Però 17 milioni No A che le devo dare L'altra parte Sempre Ragazzo Con la valigetta 3 milioni 8 Mr.K Ce n'è da Poco ragazzi Questo qua Parece Fatto aspettare Ci ha fatto aspettare Due Significa questo Ma si è permesso Veramente anche Di sparare Quel pezzo De merda Avevo l'armi Sbontate Dio Cioè Che ti rende conto Ti rende conto Ma Ma Dove le carichiamo I gioielli Tappa Sono nel Mercedes Li ritiri tu Direttamente Sì Faccio una CPR Sì Fammi dire Su da K Penso Intensamente Eh Non si può 99 Dai Io andiamo Alla Ivan Grazie Del like Facciamo Proprio Quella roba Di altre Stamacchi Ma Seriamente Quello Mi ha sparato Ma Ho le armi smontate Ho le armi smontate Cioè Proprio Io stavo Proprio Tranquillo Va bene Fa una cosa Dottor Prenditi Stamacchi Quale? Andiamo via Ci troviamo Eh Questo è il Mercedes Prendi da te Ci troviamo Sì Io mi dissocio Eppure Parlando Fuori dalle righe Eppure rovinata la scena Così Cioè Voglio dire Ma Mi dissocio Cioè Siamo Sì Ado Tagliano E che no Ovvio Ovvio Eh C'è capito Che toglie Vabbè Eh vabbè Va pur Bella Julian Grazie Del like Fra È la presa Direttore Del direttore Alla fine No Non potevo Andrea Bella Michele Grazie del like E benvenuto in chat Raga Ora si va Si va Ora si va Su warzonino Andiamo Tra pochissimo Si erano i bianchi Le andrano i bianchi Si si erano loro Poi spegnere Le quattro frecce Ah Come cazzo E il muscolo Cancella Dell Comunica Si chiama Cancella Solo per Chiudere il telefono Tipo Eccolo Si ogni volta Poi rispondendo A telefono Così Si si Voglio palo Mamma mia Guarda Proprio Una toccatina Leggera Spiorato 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 Quando stanno No Io ti penso Nel garage Sono entrati Mi pare che sta qua Stai qua Qua Stai qua Stai trabottare la di quella Leggera Leggera Eh aspetta Aspetta Pro io Va aperto Già Vai No No scusa Questo che significa Significa questo Bang Giusto Giusto Insomma Boh Fammi Nel garage Il cazzo Segreto No Dez Le faccio Aspettare Due ore A mezzanotte Quasi Si sono presentati Che a mezzanotte Sai Che io Ti cercherò Ovunque tu sarai Sei mio Direttore Te la dedico Ti stringerò Il tuo viso Dalle braccia Mentre cercherò Il tuo viso Che splendido Nell'ombra Apparirà Mi sembrerà Di cogliere Una stella In mezzo al cielo Che quando A mezzanotte Viene Il direttore Insieme a K Poggi i capelli E' una carezza Sparerà Da 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 E vabbè Il direttore E' di malumore Com'è di malumore Il dottore? Non lo so Che l'ha fatto Dottore? Cosa? Sei da malumore No 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 Assolutamente Sto spostando un attimo Tutta sta roba Da 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 una mano a capo Senti ma Quell'altro Inna dal Contra voi? Sì sì Eh sì perché Sennò Favo mattina Insomma ecco Martínez Martínez Mi sa che per quel fattore là Se ne parla domani No capo ormai Per il fattore delle macchine Eh Sì sì Eh a quest'ora ormai Ormai è taggi Io ora penso anche Vado Sì sì io pure Vabbè Dimmi Vabbè Segnati Quello che ti ha dato Eh Sì sì vabbè Ma io Il direttore è a posto Io non ne voglio soldi Non ti preoccuparti Ma come? Ma che cazzo mi interessa A posto Cioè le hai pagate Tu a non ti preoccupare Ma che cazzo Quando mi serve Qualche cosa Poi me la compri Tu Non ti preoccuparti Ma più che altro Mi viene da dippure Una cosa I sordi che tu gli ha dato A metà Cioè gli ha dato un teri A loro A metà da Rimborsiamo noi No ma io A me non mi inter Veramente Io non Ti servono No non mi interessa Io ce li ho No allora facciamo Anzi al massimo Più che altro Sei un'altra cosa Ti devo dire C'ho dei gioielli Messi da parte A casa Che poi te le porto Che l'ottima volta Me ne sono dimenticati Sì 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 Ma Poi mi paghi Quello là In caso Va bene Solo quelle là Vabbè comunque Ma vai tranquillo Allora facciamo Con te Facciamo qualcosa di diverso Per me è un piacere Non mi interessa Basta che la posso mangiare Non mi interessa niente Penso che puoi mangiare No che dici Sì sì Precisamente Pesce crudo a volontà Se no puoi Facciamo natura Come? Facciamo natura Quando vuoi Non c'è problema La botta Quando sta il garaccio E' lì Lì Dove? Alla prima Tra il muro E la prima Ciao papo Buonanotte 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 Che No Asciala Ciao Edoardo Buonasera Samuel Grazie del like Raga Benvenuti in chat Come andiamo? Mamma mia Che sonno Allora direttore Oh amore mio Dimmi Ma Domani sera Ci sei? Sì 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 A posto Ah voglio Voglio provare Di nuovo La scalata al ciglia Ma dobbiamo provare Ah effettivamente La dobbiamo riprovare Sì 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 Comunque Che stavo dicendo? Ma Per quella cosa Eh Per quella cosa là La prossima La prossima Apro Il prossimo VND Aspetta un'altro Sì Un'arri che buono Sì è sopra il direttore È sopra il direttore Andrea Sì sì È il capo del cartello Pop Prima o poi Arriverà quel momento Che ci facevano qua Come come No mi ha detto il direttore Di uscire Mi doveva dire Non so che cosa Esatto Esattamente Cinico Hai detto benissimo Non parlo Non parlo a entrare Sono qua Parlo meno indietro È la green Grazie Grazie Del like Green Wild Grazie Del like Tutto posso Tutto bene Ho detto Andiamo a vedere A casino Come è messo Ma è più Non lo farò mai dire No 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 Ma è tranquillo Cioè Stavo accendo Siamo appena tornati Ah Ok Sì sì Va bene Va bene Tutto a posto? Ma Ma Ti dirò Ti dirò A due posti No a posto Ah a due posti Sì Sì Bene Bene Ma Sì 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 Io penso che Insieme a Gaia Dobbiamo parlarti In un momento E Tony Buonasera Magari Magari Tony Lo facciamo Partecipa Domani sera Diciamo un po' di cose Tony però Mi devi fare una cortesia Eh Lo shampoo Ti è finito Eh E domani sera Te lo facciamo Io voglio capire Come che tu C'è tutti sti capelli A me invece Non cresce E direttore Ma è genetica Cioè Voglio dire Se ti sei lavato Tutta la vita Con lo svetto Che sole piatti Che cazzo Che cose Ci posso fare No no Veramente Usavo uno shampoo Abbastanza Via Cal No Via Graal Via Graal Via Graal Ogni volta che facevo Lo shampoo I capelli Duri Duri Non capivo Perché Beh Ed è per questo Che sono accanto Adesso Se lo chiede Io vi auguro Una buona notte Buona notte Domani E te Dobbiamo Parlando Ma quanto vuoi dire Prima Ma oh Cerca di svegliati Un poco più presto Però Inca La sera Io Tutti il tempo Spiego No Non me lo spiegate Ecco Stavo da macellaio Direttore Tani Mi ha fatto un piacere Ma quanto vuoi Buonanotte 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 a tutti Ciao K Buonanotte a domani Fammi sapere Se vuoi puoi prendere quella No no Dormo qua Mi cuore con il garage Ok Aspetto però No no Non ti preoccupare Non ti preoccupare Avanti ragazzuoli Let's go Andiamo Allora Andiamo a warzonare Andiamo a warzonare Vero Non ho chiamato Bruce Vabbè riperozzi Raga Lo contatteremo poi Ho dimenticato A contattarlo Raga Ma chi è che ha perso Un sand Avete visto Sto video Beh penso di sì Ragazzi Abbastanza famoso Secondo me Raga Ma chi è che ha perso Un sand Allora Andiamo a sistemare tutto Andiamo a settare Il nostro bel code Mamma mia che bello Quanto lo amo Sto gioco ragazzi Capisce No Ma che dite Allora vado a prendere La red bullina Raga La red bullina Che non può mancare Non può assolutamente mancare Mentre si avvia La partitozza Vado di red bull Non vado di monster Perché è troppo La monster Warzone L'hai mai capito È un battle royale È una tipologia Di gioco particolare Ma molto bella Devo dire Allora Call of duty Warzone 2.0 Eccolo qui Modifichiamo i dettagli Tra i Harding Attorno Warzone No Green Hell Si è andata a dormire No Mannaggia la miseria No way Eh si ormai vado Praticamente tutte le sere Poi Su Fortunino Allora Vediamo un po' Chi abbiamo on Vediamo un po' Chi abbiamo on C'era Enzo Che se non mi sbaglio Mi aveva detto Che voleva giocare Eccolo Sembra che era lui Sì Sembra che c'era Enzo E forse qualcun altro Anche che voleva giocare Non mi ricordo Ma chi è Josibat di Perusi Ma mi dissocio Allora ragazzi Mettiamo Code Eccolo No Non l'ho mai portato In live Onestamente Green and Wild Onestamente Non l'ho mai portato Code Mobile Boh Non lo so se c'è Non ho capito se c'è Enzo Non ho capito se c'è Enzo Ragazzi Questa cosa non l'ho capita Io provo a rinvitarlo Bentanto Se non starto Stando starto una singolo E nel frattempo Raga Aspettiamo che arrivi Arrivo Vado a prendere Una bella Red Bull Raga Vado a prendere Sapete che vi dico Sì ne ho bisogno Raga Se no mi addormento Altro che Warzone Oh Un minuto Raga Aspetta vi lascio Con un po' di buona musica E poi torno Fra esattamente Un minuto Code Mobile Ti devo dire la verità Green and Wild Io non ci ho mai giocato Ci avrò giocato una volta Così a caso per provarlo Ma proprio Solo una volta Ci avrò giocato Non fa per me I giochi mobile Non fanno tanto per me Ragazzi Cioè sono Veramente Non lo so Non mi fanno impazzire I giochi mobile Anche se ho un telefono Che si presta Al gaming Non fa per me Raga Allora Ok Perfetto Raga Arrivo Nel frattempo Starta la lobby Arrivo subito Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eccomi guys Eccomi qua Allora Raga Eccomi qui Mi ricordo Com'è che si attivano I filtri in video Mi ricordo Da dove si attivavano I filtri in video In gioco Era CTRL Z Red Bull Non mi ricordo Red Bull E via Ragazzi Certo Certo Che è gratuito Twitch Bella Jason Grazie del like Fratello Andiamo Andiamo Vai che sono Bello carico Allora Allora siccome voglio fare Un po' di partite serie Ragazzi Disattivo totalmente La chat di prossimità Così ci facciamo Un po' di partite Belle concentrate Grazie alla condivisione Grazie mille Fra Che non mi fa pingare Mi fa pingare Va Fare tranquillo Qua la situazione Hp Non l'abbiamo preso Lì volendo Abbiamo un contratto Però prima raga Cercherò di farmi Un po' di loot Decente Perché non sono messo Proprio al top E che palle Però sono zaini Qua Non sto trovando Niente di utile Proprio Ma che abbiamo Dammi un autoresso Magari No Mi prendo la stun Sinestra lì Macchina dietro Wow Wow La macchina Non me l'aspettavo Però c'è un tizio Di là Lo sappiamo È tornato ora Jason Da lavoro Ho capito Fratello Ho capito Ho un involo lì Ezz Sono sicuro Qui Camberati Questi Ho bisogno di munizioni Però ragazzi Dammi Dammi lo suo zaino Però Questo è buono Però non ho colpi Mitraglietta Raga Zero Perché non mi fa Prendere il suo zaino Grande Vabbè Perché è buggato Ovviamente perché è buggato Ho solo 15 colpi Di mitraglietta Sono messo male Dite che ne trovo altri Speriamo Sto facendo torni di notte Dalle due e mezzanotte Ho capito Fratello Ho capito Ho capito Ma vabbè Ci vuole anche quello Ci vuole Bisogna Fatica Bisogna Ci sta Fratello Ci sta Ma per quanto tempo Farai questi turni Devo fare una cosa Tranquillo Vai tranquillo Fratello Quando finisci Sono qui Con de munizioni Comunque Ma zero Ok Grappolino Oh roccaforte Dov'è una roccaforte Me lo vado a prendere Volentieri Vado È che non c'ho manco i colpi Per fare la roccaforte Mannaggia Alla mise Però ci vorrei andare Lo stesso Bella pep Grazie del like Benvenuto in chat Ho pochissimi colpi Regà Un caricatore di AR E un caricatore di cecchino Ma io vado lo stesso Perché sono inizio Ignorante E qui non si sale Passiamo di là Passiamo Andiamo 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 Let's go Let's go Let's go Bella Zerinko Grazie del like Fino c'è la tenta Poi ci spostano Alla spezia Ho capito Ho capito Dove arriva Triguoso Per caso Può essere Perché io ci sono stato A quel cantiere Alla spezia Sai Mitraglietta Dei colpi Almeno Una gioia Ma sta Sta roccaforte È lontanissima Per andarmi a prendere Sto lodi Madonna I chilometri Dobbiamo fare Mi sento che mi spareranno da dietro Mentre salgo Sta montagna Vedrete Muggiano Ho capito Ho capito Ma ti immagini Si potevano usare Di posti mortai Qua Oh E' lì Sono andata La roccaforte Sicuro C'ho un avanti Ora l'elicottero Scendeva Non ci ho fatto caso Mi giuro Che non ci ho fatto caso Raga Ma è qua Ma è una guardia Sono le guardie È un piccino Andate Oh Cazzo Non so dove sono tutti Ma stanno sparando pesantemente È sotto che devo prendere il lodi Appena finisce il grappolo ragazzi Anche un bombardo hanno tirato Ho colpito qualcuno Il grappolo Ho ucciso qualcuno Mi sa Non li sto vedendo Maledetti bot Fammi sta cassa Perché non me le fa prendere Ce l'ho fatta Finalmente Arriva il gas Marco la nuova zona Ok Perché non mi fa raccogliere le cose Mannaggia la miseria Ok Ora abbiamo le BR Ma non i colpi Ho visto Ho visto No No Dai ho sbagliato Mannaggia me Buonissima raga Soldati Ora le vostre patetiche vite Mi appartengono Ehi dottor Puck Come on Come on Dottor Puck Come on L'altro qui Bella Ciao Non so se hai fatto il giro Ci tornerei là dove ero Raga ma Non so se riesco a tornarci Ero qui mi sa Tipo questa zona Tipo qua Vediamo Provo eh Io ci provo a tornare Mi devo vendicare di quel tizio Per la filipocrazia dell'Aica A meno chi è raga Non provo a fare altro Proviamo a cambiare tutto E andiamo da un'altra parte Che dite Dai cambiamo tutto Ma chi me lo fa fare Andarmi a buttare in mezzo ai nemici Dai E quindi magari vi beccate ragazzi Allo stesso cantiere Chissà Hanno lasciato un elicottero Lì sono morto Cioè c'è troppa gente In sopra in zona Mannaggia lui Nooo Ma mi ha tirato una cecchinata Che culo Guarda che culo Come mi ha avviso Non ci credo Una cecchinata a cazzo Mi ha tirato Guarda là era one shot Ma lo sarei fatto Mannaggia la misera Che sfiga raga Che sfiga Che c'ho Che palle E vabbè Andiamo alla prossima Vai Andiamo alla prossima Stiamo livellando Almeno quello Regà Almeno stiamo livellando Un po' dai Almeno quello Ma scusa Non c'è nessuno Da invitare Enzo mi ha detto Che mi diceva lui Appena c'era di nuovo Boh Mi sa che non c'è nessuno Raga Andiamo Andiamo in singolozzo Raga Vediamo se riusciamo A vincere una bella solo Vediamo se ce la facciamo Ai 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 Stanotte secondo voi Dormirò un po' di più Rispetto ad oggi Boh non lo so ragazzi Non lo so Perché poi fine live Mi metto là Sistemare un po' di roba Regà Quindi è sempre così Si fa sempre tardi Raga Allora Un po' di musica Nel frattempo Regà Ci ascoltiamo un po' di musicozza Mentre ci facciamo Dei game ozzi A warzone No No questa Ci vuole Darci la carica Preparate l'attrezzatura Manca poco Super l'albase Super l'albase Siete pure qui Ammassa Carara Fanno acciaio Hai visto Vi siete arrivi Magari vi beccate In qualche cantiere Prima o poi Assieme ragazzi È probabile Eccoci Ci siamo ragazzi Dai andiamo Belli spinti Agguerriti Dai che sono carico Forza Vai andiamo Allora Airport è il mio spot Raga Airport è il mio spot preferito Vado chiaramente Ad Airport Allora raga Via Terminal Noi qua Monfalcone Abbiamo poco lavoro Sicuramente ci sposteranno In quelle zone Eh beh poi funziona così Immagino chiaramente Dove c'è più bisogno Di operai Andiamo raga Andiamo Situazione com'è Intorno a me Una cassa subito Eccola La priorità È l'eliminazione Di tutti i bersagli Sento spari Verso lì Uavi nemico Attivo Rigoloso Sono con lo sniper Occhio Ma che cosa Ma che cosa Ero già sceso Porca puttana Ragazzi Ma che cosa sto vedendo No vabbè Non ha senso questa cosa Era pure dall'altro lato Io ero sicuro sceso Maledizione Questa è connessione Porca puttana Ma vi rendete conto Vabbè 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 Porca troia Io già ero sceso giù Io già ero sceso giù Lui da dietro il muretto Mi è fatto lo stesso Mi fanno impazzire Certe cose raga Nulla da dire su questo Certe cose mi fanno Proprio diventare pazzo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Eh vabbè Poi la solita fortuna Sempre raga Chiaramente Quella Non può mancare mai Guarda ora perdo il gulag 100% Dai Concentriamoci un po' Proviamoci Uccidere Prigionieri Prigionieri Fatto Bella Bella Andiamo Andiamo Cazzarola Allora Vediamo se mi riesco a fare Quello che è fuori safe Andiamo belli dritti dritti Dai che se riesco a prendere Sto scassinamento Rega non è male Ho un po' di soldi Posso comprare le armi Tra un'arma Niente da fare Diverse roccaforti Identificate Le loro posizioni Sono sulla mappa Tattica La fenne Speriamoci Figata Merda Mi hanno avvistato Eccolo Eccolo Mi scappi Che infame Che ne è scappato là dietro Ah sta tornando lui a fight armi Eccolo Peccato Drone bomba Nemico Nell'area Drone bomba No 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 Un altro tizio Ma vaffanculo Sempre così Ragazzi Sempre così Madonna mia Che palle Ma pure con la pistola Mi ha fatto questo Mamma mia Che sfiga Rega Madonna Sante le singolo Rega Questo è il problema Delle singolo Porca puttana Maledetta Della nico Grazie del like E del follow Benvenuto nella family Mannaggia alla miseria Rega Che morti stupide Mamma mia Mamma mia Che palle Rega Che palle Vediamo un po' Chi c'ho da invitare Voglio fare un po' di coppie Rega Mi secco a giocare in singolo Coppie Terzetti squad Vediamo se c'è Enzo Lo provo a invitare Vediamo se c'è Assolutamente Jason Le aspetto le foto Lo sai Poi sopra il treno Ma capito Jason Cioè mi succedono cose Che divento pazzo Divento pazzo Mannaggia la miseria Ma ti rendi conto Uno con la pistola Da dietro Mentre sto fai dando Con quello Ah Santo Dio Siamo chi c'è on Devi vedere un attimo Stefano Ma non me lo fa invitare Enrico Ma non me lo fa invitare Vabbè rega Sapete che vi dico Vado a farmi Un'altra Singolo Vediamo un po' Vediamo un po' Eh vabbè Ce la faremo un giorno Forse Vedo non vedo l'ora Di sbloccare il caricatore Fai morire a ridere Grande Fabione Grande Grandissimo Vorrei sbloccare il caricatore A tamburo Per la fennec Rega così Da poterla avere Bella guerrita Competitiva Da utilizzare Devo maxarla Devo maxare la fennec Assolutamente Mi ha sciolto Con la pistola Mannaggia la miseria Jason Ma vi rendete conto Ma poi possono succedere Solo a me Solo a me Allora Vedo l'ora raga Che arrivi giovedì Partirà mai questa partitozza Mannaggia Ma qualcuno Dalla chat Non vuole venire a giocare Qualcuno di voi Qualcuno di voi Che vuole giocare Non c'è Perché io vi devo essere onesto Mi sto un po' Annoiando A giocare solo Vediamo un po' Se trovo qualcuno Dei ragazzi Fatemi dare un'occhiata Un po' Chi c'è on Magari c'è qualcuno Dei ragazzi Andiamo a fare Un po' Di squadra Ma c'è Nabbo Vediamo che dice Nabbo Controllate l'attrezzazione Attrodo mi sa Un italiano Natale Compro la play 5 Poi potremmo giocare Ma ti dico Ciò che vengo Dai dai ti aspetto Ti aspetto Fabio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. Allora, perfetto, ci siamo, guys. Ripartiamo, belli agguerriti e cariche, andiamo. Ho preso la Play, la Play 5 anche tu, Jason, grande. Deve solo arrivare a casa e aprirla. Uh, 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 grande. Bella, ci sta, fra hai fatto un bel acquisto. Io ho giocato da Play 5 in questi giorni in sala da Speedy Beat a Catania. Ed è bellissima la Play 5. Anche se non sono un PC player, devo dire che la Play 5 è bella, regà. La compri al mio figlio, poi ci gioco io, quindi la compri per te in realtà. E' la scusa che è per tuo figlio. La scusa per tuo moghi. Dici, è per lui, è per lui, è per il bambino. E invece... Fai benissimo, fai. Faccio un po' di gente, andiamo qua, dai. Magari li facciamo allo spawn questi. Subito. Madonna, l'hanno esploso. Da dove è la domanda? Da dove gli hanno fatto del male a quel tizio? Non si è capito. Oh, un UAB. Buono. Sono sotto. Dove sta? UAB, fine autonomia. In rientro. Trovato. Questo stronzo che mi ha scammato la kill poco fa, regà. Allora, andiamo, va. Vediamo un po' che troviamo. Troviamo 5.000. Devo trovare 5.000. Alle stazioni di servizio li trovo, qua. Vai, andiamo diretti, raga. Lì, in teoria, ci dovrebbero essere un bel po' di soldi. Vediamo se effettivamente è così. Dovrebbero esserci, regà. Li dovremmo trovare. Speriamo bene. E andiamo a valutare. Andiamo a vedere se effettivamente è così, dai. Rieinventare qualcosa, se no, non me la fa comprare. Mi fa comprare qualche robot da cucina, infatti. Ci sta, ci sta. Però la Play 5, regà, la consiglio veramente come console. Anche se l'Xbox Serie X, regà, non è da meno, eh. Non è da meno. Però la Play è bella, 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 bella. La vediamo un po'. Cazzo, ho preso l'unica stazione di servizio dove non c'è la stazione di servizio. Ma vi rendete conto che cazzo di sfortuna che ho? Mannaggia alla miseria. Ma veramente? Ok, una cassa qui e un'altra sopra. C'è la roccaforte. Potremmo andare a rifarla come prima e prendere il loot. Volendo. Allora, vorrei grossare dall'altra parte, regà. Devo cercare loot. Devo cercare... Devo arrivare a 5.000. I soldi su sta mappa non si trovano, regà. Non si trovano. Proprio zero. È difficilissimo trovare i soldi. Allora, non si trovare i soldi. Invece sì. Mi servono i colpi di... Mitraglietta. Però voglio la Fennec. Ok, top. Mitraglione ce l'ho? No, riprendiamolo. Questo aveva qualcosa di serio? Buono. Buono. Abbiamo 4k. Dai, ci manca poco per avere i soldi per prendere le armi. Dai. Nemo. Li troviamo, sti a case. Spero. Ah, posso. Sono messo bene colpi di mitraglietta. Dove ne bomba? Già ci trovo. Assurdo che non trovo gli ultimi 800. Madonna. Ho girato mezza mappa. Che palle, raga. Dovrebbero... Oh, li ho trovati? No. Ho trovato solo 100. No, ma infatti il sensore non mi serve a nulla. Cioè, non ha senso manco che me lo porto. Ah, questo è forte, raga. Forse mi porto questa. Allora, adesso ho i soldi, volendo. Serve il carrello e dovrei andare a questo, che è il più vicino. Vabbè, direi di andare con... Un blindato. Andiamo col blindato. Andiamo, andiamo, andiamo con quello verso il carrello lì. Vai, let's go guys, andiamo. Dritti verso il carrellino. Ci sarà uno puntato che ci aspetta? Sicuro. È normale che ci sarà. Non è aperto, però. Eccolo. Ma ti pareva, ti pareva, mannaggia all'oro. Ti pareva, ma ti pareva, ma ti pareva. Sta bruciando l'auto. Capone, non ho craccato one shot. L'ho messo, raga, non ci credo. Mi ha fatto forse il... Il trecchiettino del salto, quello là. No. L'ho messo one shot, mannaggia. Mi è venuto a pushare mentre mi mettevo l'ultima piastra. Se no me lo potevo fare tranquillamente. Che palle, raga. Ma che si fa quel... Quel trick. Ok, eccoci. Vediamo un po' sto Gulag. Vedete la possibilità di redimervi per i nostri fallimenti. Uccidete e sarete venuti in fronte da dove siete venuti. Valgite e getterò i vostri cadaveri ai militani. Bello. Le nade, le nade. Ok, andate. Let's go, guys. Andiamo. Allora. Grande Enzo, allora finita questa d'invito. Meno male che ci sei. Mi stavo rompendo un po' a giocare in singolo. Devo dire la verità. Grande, grande. Finita questa d'invito. Allora, andiamo a una stazione di servizio. Come se troviamo un po' di soldi. Sì, sì, finita questa d'invito, Fra. Bella Pasquale, grazie del like. Enzo, grazie anche a te, Fra. Fallo solo la Magnum, raga. Niente di utile, poi. Coltellino da lancio, figo. Oh, poi non l'ho tutta. Ma? Autoress? No, però ci sono due sim, ma anche se questa non è male. Adesso dei soldi. Punizioni. Oh, un MP7, prendi. Ho lasciato qua la granata, infatti. Localizzando. Un consiglio, devo essere un po' più veloce. Eh, raga. Lo so bene, lo so bene. È tempo di riabituarmi a code, raga. È tempo di riabituarmi. Non gioco da tanto a code. Anzi, che già riesco a muovermi così. Allora, questo cos'è? Un costo? No, preferisco l'MP7. Niente, medikit. Devo capire come si fa sto salto buggato. Non ho capito se c'è gente. Oh, ma niente comunque di qua. Non c'è manco un po' di loot. Bella Ernest, grazie del like. Cioè, un po' di loot vorrei trovare. Non chiedo tantissimo. Un po' di loot. Un pochetto. Un po' di loot a real. Lo loot a real che ha visiere sante. Nononononononono. Bello. Che fumogeno. Che prendo tutto quello che vedo davanti a me, ragazzi. Ok. Soldi trovati, top. Possiamo finalmente comprare la nostra armetta. Gatti in avvicinamento. Raggiungere la nuova zona sicura. Non voglio fare rumore, raga. Le finestre, cose. Se riesco. Ma tanto arrivo lì e mi scoppiano. Guardate, come sembra. Ogni carrello. Tutto bene, Ernest? Tu come stai, caro? Tutto a posto? Ok, ora ci sono. Sarebbe fantastico trovare una sacca per avere tutte le corazze. Ovviamente non la troverò mai. Lancio l'equipaggiamento in arrivo. Non sarebbe male prendere anche il load out. Però, raga. È rischioso quello. La Samtex prendila. Macchina? Al carrello? No? Pare di no. Risparano. Hai visto? Sto scoppiando quell'auto. Mi aspetta avanti. Comunque dovrà venire in safe. Conviene crossare e prendere una posizione tranquilla. Andiamo qua. Se lo riesco a vedere da sopra, magari. Eccolo. Ok. Ora crosso. E lo aspettiamo più avanti. Tanto dovrà passare, per forza. Vai, andiamo. Let's go. La Mircea, grazie del like. Ok. Eccolo. Oh, mi sta mirando. Ma guarda questo. Tanto non ti faccio passare. Grande. Grandissimo, Ernest. L'ho completato tutto quanto. L'ho completato tutto quanto. Mafia. Bellissimo. Sì. Ancora mi mira quello. Madonna mia, raga. Madonna mia. Madonna. Io sono l'unico che non shotta quei cecchini. Pure se prendo in testa. A me mi shottano tutti. Puttaneva. Guarda qua. Mamma mia, i nervi. Mano male che c'è Enzo, raga. Non vado, non gioco più in singolo. Perché stasera ho rischiato di spaccare tutto, raga. Ve lo giuro. Vi giuro che stasera ho rischiato un sacco di spaccare tutte le cose. Allora, dai, dai. Invito Enzo, invito Enzo. Allora, allora, allora. Preferisco andare a giocare in gruppo, raga. Lì ho sbagliato comunque a repiccare. Si vede che sono fuori forma, raga. Poco da dire. Allora, invitiamo Enzo. Invitato, invitato, invitato Enzo. Ti aspetto. Nel tempo mettiamo un po' di... Un po' di musica. Non vedo l'ora di giocare in coppie, raga. Mamma mia. Una serata in singolo diventa pesante a un certo punto. Allora, mettiamo un po' di musica. Mentre startiamo la prossima partitozza. Anche perché Nabbo non so che fine abbia fatto. Mi ha detto che c'era, però poi non so. E' un po' di musica. Ok, vado. Ah, ma forse mi si era buggato. Sì, infatti, devo uscire un attimo, Enzo. Devo uscire un attimino dal gioco. Perché come sempre è rotto, mannaggia alla miseria. Ah, ma mi aveva chiamato Nabbo, mannaggia alla miseria. Cazzo, mi aveva chiamato mentre ero in partita. Vediamo se c'è, vediamo se c'è mentre ero starto. Eh, vabbè, io sto startando solo con dei ragazzi. In caso poi giochiamo domani, se vuoi. Va bene. Dai, dai, va bene, va bene. Domani mattina ci sei? Vabbè, dai, ci sentiamo dopo in caso. Buona notte, Rada. Ciao, ciao, Fra. Ok. Arrivo, raga. Ci sei pure tu. Mandami la richiesta, Mirsea. Mandami la richiesta, Fra. Scrivi punto esclamativo ID. Sono uscito un attimo. Sto rientrando, Enzo. Sto rientrando. Un attimo sono uscito. Mandami la richiesta. Scrivi punto esclamativo ID in chat, Mirsea. Ah, che ti esce il mio ID. Mandami la richiesta che ti invito. E alla prossima partita ti invito. Cioè, insomma, vieni con noi. Arrivo, Enzo. Arrivo subito. Aggiornamento playlist. Caricamento messaggio del giorno. Allora, Enzo, Enzo, Enzo. Dove sei? Dove sei? Eccolo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ti ho invitato, Enzo, eh? Ti ho invitato. Eccolo. Mi senti? Mi senti, Enzo? Sì, ti sento. Ecco, come stai? Buonasera. Bene, bene, fratello. Grande. Allora, andiamo. Facciamo un po' di coppie. Io invece sono un po' avvelenato. Che le singole ancora non sono abbastanza in forma per farle. mannaggia la miseria ci avveleniamo assieme si sicura molto probabile molto probabile prova se non è un problema non è un problema già avvelenarsi in coppia meglio che avvelenarsi da solo guarda credimi ah sì questo sì ma c'era mi sembra pure un altro ragazzo che doveva entrare sia scritto in chat mi sta mandando la richiesta si ora che l'accetto lo invito appena me la manda si appena insomma penso alla prossima no non mi è arrivata non mi è arrivato ancora non ho come ti chiami in gioco e tra questi nn void jerry scott i boston georg 87 rizzi ball par papa paraba chi ti ha questo sera poco hai fatto lp sì ma ultimamente c'è poco da fare in giro ora sto progettando una nuova storia bella Quindi a breve ricominceremo Belli col botto Però per il momento Ok ho disattivato la chat di prossimità Questa partita l'ho disattivata La chat di prossimità La tengo solo di mattina La sera se mi metto a urlar Io le persone Stop stop Mi buttano fuori Eh si Ecco la mia arrivata la richiesta Perfetto ti invito alla prossima Ti invito alla prossima Dai frate che me ne pc mi manca Solo le ssd E ci sono Sono operativo Sì 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 Siamo Mi fa piacere dai Io adesso facendo una gang di soli siciliani Ciao 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 Non ci dicono queste brutte parole Sto parlando con uno Sì sì No io me l'ho disattivata La chat di prossimità Mi ci sballa troppo È troppo bella Sì Troppo bella Poco da dire su questo Ora non mi ricordo Come è che si aprivano i filtri in video La taschiera Mannaggia Come si capisce Ho disattivato la chat pure io Allora 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 Dove andiamo Non ne so All'osservatorio L'osservatorio si dice Che dovrebbe essere La nuova superstore Tipo la nuova zona Di casino Dovrebbe essere Si Vediamo Scopriamolo Cosa ne pensi la nuova mappa Io penso che sia fantastica La nuova mappa A me piace troppo Sto andando qui Al primo bombolone Con la ricotta C'è tantissima gente Guarda io qua Qua siamo noi Soldi Ho fatto uno Ce l'avrò C'è altra gente Sono italiani No Eccole qui dentro Qui Mi matarono Non c'ho A me matarono Oh gente Gente No No Porca poppana No dai Non c'è la miseria Non me l'aspettavo per niente Ti va Che palle Madonna Santa Che sfiga Madonna Io ho trovato un'arma A colpo singolo Porca Allora andiamo a destra Saliamo a destra Che dalla passarella Su abbiamo un po' di vantaggio Aspettiamo che tirano le granate Uno è lì Sono tutti e due a sinistra Saliamo sopra Se prendiamoci dai ground Uno ha fatto L'altro è uno Ok ok A posto Bella Bella brother Andata Allora Possiamo andarci a fare Non c'è un bel contrattino Ci sarebbe questo scassinamento Oppure scendo sotto a Rohan Qua Quindi ma siamo spawnati Uno da un punto E uno da un altro Cioè ma veramente Io boh Prova a prendere questo Prova a prendere questo Vediamo che riusciamo Ma sono troppo lontan Cioè ma che palle Però così dai Eh prendi Qualche mezzo E ti matta Eh arrivo arrivo Che palle Madonna Mi devo fare tutta la pampa in volo Mi devo fare ora Francesca Grazie del like E benvenuta in chat C'è gente sotto No c'è gente C'è gente Cambia 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 Incontriamoci tipo qua sotto Qui c'è un contratto Poi basta che mettere I cosi Dai Le placche Non cammina più E' proprio questo E' lentissimo Quando si mette le piastre Super lento E' lentissimo Mi salvo E mi salvo E invece forse Invece forse mi sono salvato Grazie all'acqua Ma vabbè vengo prova a venire verso da te Eh io mi sto avvicinando verso di te Invece no Qua c'è troppa gente Devo provare a trovare una piazza o qualcosa Qua Provo a fare questa cassaforte qua che ce l'avvicino Cazzo io ho una cassaforte qui di qualcuno Già hanno pulito tutto qua Avete raggiunto la zona sicura Vediamo che non vengono a prenderti la cassaforte Mentre ho solo la pistola Ma c'è gente Un'arma porca puttana Un'arma mi serve Un'arma dai Ma niente Abbiamo individuato equipaggiamento prezioso in container nemici Trovali e recuperalo Sì perché me lo stanno facendo recuperare Dico se è giusto Oh finalmente un'arma Ora ci siamo Prendi un computerino qua Ancciato un po' di missioni Sotto Vabbè dai arrivo verso di te Notte notte Dani è domani fratello Arrivo Madonna è pieno di gente Qua sembra un po' più tranquillo No vabbè Perfetto Ce la possiamo fare Che falla Eh perché ci butta Ma ci butta troppo Troppo lontani Madonna mia Eh vabbè Eh vabbè Dove è n'è così Fratelli Ragazzoccia No Mi viene questa e poi c'è il carrello al canto Però sentivo una cassa qua uscì Eh qua sarà lootato perché dove siamo scese all'inizio Non ti conviene andare direttamente alla cassaforte secondo me Sì sì infatti Perché tanto se c'è gente a me non finisce prima la sofferenza Giusto Ci sono i rest è sempre così Ma poi dipende a che punto della partita sono i rest Ci trova meglio con questo È forte il lancio È una bella arma veramente Allora la cassaforte dove sta qua eh Allora la cassaforte dove sta qua eh Ma andiamo a trovare Marco la nuova zona sicura Ma andiamo prima del SAR Sì E mi fanno proprio le persone Ah poi è uno Ah no due Sono due Due Nooo La squadra è marcata Mi hanno bersagliato Mare Sì Quindi sanno dove sono Sì 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 Uno resta uno Muore quello E l'altro va a restare l'altro Poi muore Sì Le coppie sono infami le coppie Ma Vabbè Però magari uno scambia qualche parà Sì No vabbè sarà bello Cioè allora attenzione È Difficile perché ci sono tanti team Però è bella come modalità Secondo me Sì sì Soldi seriosi È un carrellino C'era davanti forse No Dove sei? Dove sei? Qua Maronna C'era di me C'era di uno Qua Ma qua è dove? Dove sono morto io forse Può essere Questo mi conviene Vado E' la madonna Che sta succedendo? Tutto tutto C'è tutto qua No no però lasciate io L'addio perché Non è importante L'ho fatto qua C'è gente sicura qua Ecco Occhio che ti dispezzo Ti spezzo Se picchi di nuovo Ti distruggo Ma non bicchia una macchina Da lì Allora 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 Secondo me stanno aspettando Che vai a restare Uno arriva Sta salendo Cazzo Ecco uno sceso dietro Tipo Vedo che due è qui sopra Ecco uno Però io sentivo Qualcuno vuole da te Ho sentito un drone Macchina pure Madonna Io provo Allora Allora Mi sa che si sono allontanati Qualcuno ci è scoppiato lì Scappa Dove ci vediamo Vieni qua Qua da me Vieni qua Vieni qua Sopra dove sono io Qua ci sono armi Ah ma c'ho anche i soldi Per comprare un'arma Sì A posto Ora ci sono Ora ci sono Tipo qua Tipo qua Oh Ah cazzo Scassinamento Non ne vedo Non ne vedo movimenti Calma piatta No 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 Lancio di equipaggiamento in arrivo Lancio di equipaggiamento in arrivo Lancio di equipaggiamento Vediamo queste case Possiamo fare uno a vivo Lancio di equipaggiamento in arrivo Ti porto i soldi Perché io mi sa che già l'ho comprato Non lo posso rifare Io ho un attacco a grappolo Vabbè mandalo subito Lo avvio E ti riprendi il grappolo Allora Eccole qua Ti copro Cioè mi stai Mi stai mandando a macello In bagno No no Ma che ma no Ci sono qua Ti copro Pulito pulito Cattro nel tunnel Oh davanti a te Oh da dietro da dietro Mi sparano Porco giuda Ma da dove cazzo Madonna Scappa scappa C'è lei sopra No Ora l'avevo fatto Ora l'avevo fatto Sì che falle Falle Che falle Ma perché quello sotto L'avrei scannato Che mi ha sparato Quello da sopra Cioè non potevo fare niente Invito Mi rseva L'ho ucciso Mi volevo mettere Che torna la cassa Che mi corazzavo Però neanche il tempo Mi ha dato Che falle Quello sopra Che falle Che falle Veramente Problemi Eccolo qua Grandissimo Ciao ciao ragazzi Ciao bello Buonasera Tutto bene? Buonasera Ciao ciao Sì sì Dai proviamo a vincere Dai Porca puttana Sto facendo schifo Proprio stasera Sì che sono stanco morto Però Per fare di meglio Vabbè qui c'è pure la sfortuna Madonna mia Hai visto lì come sono morto Cioè quello sopra il tetto Mannaggia la mia Ma poi sono morto Cioè vabbè ho fatto una serie di morti Imbarazzanti Comunque Vabbè siete arrivati allo shop Nello stesso tempo Capito Spiga Ma il fatto è quello sopra È stato Perché fossero stati tutti e due sotto Li avremmo arati Invece Eh lo so Infatti quello dello shop è morto È rimasto quello sul tetto Che praticamente stava facendo la stessa cosa che lui copriva Che hai messo? Battery al coppio qua Terzetti Così mi appare a me Ah terzetti No terzetti ho messo A me mi dà coppio pure Eh pure a me Guarda che si bug che oggi mi è capitato già No io ho fatto terzetti sprenata Ok Adesso che vi spunta Eh sì mi sa che Terzetti 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 sprenata Avvio Ora Sì sì così Va bene Che differenza c'è tra terzetti e sfrenata? No non cambia un caccio È uguale Forse l'unica cosa è che puoi fare il team da sei Tipo sei recluti i nemici con la certa di possibilità Ah Che puoi far entrare veramente Proprio nel tuo team ufficialmente Non tipo solo a voce Come faccio io Ah sì Tu sei un pazzo Sei un criminale Ah 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 Vabbè Proprio l'ho fatto eh Cioè Marshall Stavo da solo e Mi son messo in un team da 4 Poi Dopo ho fatto l'infamuni Uccisi due e son morto invece lui all'ultimo ha ucciso a quello della partita praticamente l'ha passato fino alla fine tutta la squadra che comunque noi io me ne sono portati 4 in un momento eravamo 5 4 però in docente e poi francese francese è morto uscita mi sembra è cresciato è morto è morto è morto quando tipo già pusciato uno dentro una casa andiamo provo sta partita il tac 56 voglio provare che così me lo max e mi devo sbloccare quel bene perché cazzo si deve sentire sto casino io non lo capisco un po' e e e e Oggi ne avete vinte? Stamattina Stamattina ne ho vinto una Ed eravamo in terzettio squad Squad, squad, in squad Tra l'altro La partita che ho vinto stamattina Ho pure fatto una rapina Un tizio, l'abbiamo puntato Questo qua eravamo noi in quattro Lui da solo L'abbiamo puntato e gli ho detto Butta tutto quello che hai a terra Tutte le armi E poi l'abbiamo preso in ostaggio E' stato bellissimo Ah troppo bello così Bello bello e troppo divertente Sta cazzo di chat di prossimità Però io ora l'ho disattivata Cioè certe volte l'ho disattivata Andiamo magari alla prossima Vabbè è meglio se ce l'hai Che li puoi sentire Eh però loro sentono bene anche Allo stesso tempo E poi ti fanno anche bordello Magari mentre li vai a pushare Ci sono quelli che urlano Per non fare sentire i passi Tutte ste cose Ci sono pure ste cose Da considerare No perché secondo me se si deve tryhardare Va disattivata la chat per forza Cioè quando uno gioca serio Secondo me va disattivata Eh sì sì Vabbè ma il gioco è stato sempre a cazzo Così per divertimento No ci sta no ma assolutamente E quando ne trovo uno Cerco sempre di fa pace con lui Faccio team Poi l'ho uccito Io sempre ci provo Stop 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 I wanna be your friend Dai mettete voi i ragazzi che Eh il portino Il portino Questo è lo spot dei miei sogni Io è la mia zona preferita In assoluto Terminal di Mv2 Sì io lo amo lì Vabbè mettete Dove ci incontriamo? Eh ma anche a ping viola Andiamo sul cerping Quel che ho messo io all'uno Andiamo là Ok Allora Ci abbiamo gente sì 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 Madonna mi quanti ne so Morco due Scendiamo prima Va bene dai No no non sparare Non sparare Vieni in pace Vieni in pace Vieni 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 in pace Non sparare Sto parlando Non sparare sto qua eh Ciao ciao Non sparare oh Dai oh Quello è il fatto Ricarico Dai che infami questi Eh ma non se lo accollano Tutti e quello è il fatto Bisogna saperci fare Allora manca ancora gente qui sotto eh Eh sì sì Vabbè io c'ho C'ho un po' un po' Se avrebbe un'arma Un po' Trovata eh Trovata trovata Allora soldi qui Oh Prendi te la trovai Non ti sa che fine abbiano fatto comunque questi tizi Cioè sono spariti Si sono spariti Sono scappati Oppure sono dall'altra parte hanno mangiato la terra vabbè fate attenzione sento rumori strani dalle tue cuffie le mie i jack del coso sarà ma prova a staccare riattaccare le cuffie è bloccato per un attimo da cali si sente si sente ho cambiato fino a mo nove paia di cuffie no io l'ho comprata wifi spesso 600 euro sono a posto pure io le ho avute wifi capito però io l'ho rotte tutte quante la cassa della vita ma che è sto coso appena si apre ci possiamo prendere il lot out ma quando si apre ma c'è uno sul tetto sì sì c'è uno sul tetto sì ecco le hanno aperte andiamo andiamo alla roccaforte freghiamoci ci sono i botti dentro l'occhio abbastanza forti e non è che io abbia un lot out forte c'è io non ce l'ho il lot out vai occhio che ci sono i botti sono bravi quando non lo so saranno in giro però io sto laggando con un cesso ragazzi ma ogni tanto perchè il laggettino anche io non me lo sta facendo ma sta roccaforte dov'è che è il loot ma non è una truffa ma che cazzo era una truffa ma doveva uno scam era uno scam ragazzi e vabbè non fa niente non è che sta sopra no 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 c'hanno proprio truffato sono scammati proprio in falle semente però e vabbè autoressa guarda che bellezza andiamo a prendere roba sul tetto siamo nuovi oh mi sembrava che stava sparando erano le cuffie aspettate un po' ma vedo che cosa posso fare mutatemi un attimo sono le cuffie quelle che scoppiano scoppia tante spumeggente no ma tu stai usando allora compro l'arma prendi il tac per sta partita no io non compro niente invece eh vi lascia i soldi ragazzi mi devo dare una cosa una curiosità io sono a posto comunque se vuoi prendi qualcos'altro ma ah io pure sto a posto e non mi lascio i soldi ragazzi vedete fate uno av ah ho lasciato i colpi mitraglietta a terra mi sa di si per caso hai qualche colpo mitraglietta eh ci abbiamo gente porco due no sotto qua fatto? mettiti safe eh si sto qua dietro la macchina ma come si fa a salire? l'altro dov'è raga? bombarda bombarda vieni qua che sei safe bravo bravo vieni 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 vai vai adesso adesso che vi copro sopravviverai non morire grazie ma come avete fatto a salire da sopra voi? c'è la scaletta dietro eh vabbè eh è brutto eh così quando non sai la mappa eh normal dov'è l'altro? non lo so non lo so non ho idea ha tirato un bomb ma non so dove sia provo a risalire su vengo con te si sente ancora il buon zio? no meglio adesso no? no ok arrivo eh cazzo non è andato questo ma crash eh lo sento lo sento che sta parlando ragazzi questo sta parlando nella certa di prossimità però io ce l'ho disattivata ma che cazzo mi sta laggando troppo? ragazzi mi sentite eh? mi sta laggando da morire ma? ma porco ma mi senti? mi sentite ragazzi? ma? ma che è sto lag? ma che palle ma una partita che stava andando bene avevo tutto il loot e tutte cose deve laggare veramente così ma che cazzo ragazzi? cioè sta laggando troppo non sono io eh si muove da solo eccolo la eccolo lì che è crashata raga che ti pareva? ragazzi mi sentite? madonna mi ragazzi mi ha buttato fuori mi ha crashato mi ha iniziato a laggare troppo mi ha iniziato a laggare è una maniera esagerata mannaggia si si pure a me mi camminava da solo no no pure a me no a me mi ha buttato direttamente fuori ragazzi cioè ma non sei con noi? non te l'ha restartata? ora si ora me l'ha restartata ma però mi dico ma non sei a te che ci ha buttato fuori mannaggia allora ma va la madonna mi manca solo il caricatore e sta fennec ce l'ho bella operativa proprio hai visto? io non c'ho non c'ho manco un'arma il loadout non c'ho manco un'arma per fare eh io piano piano me le sto iniziando a livellare mi sono fatto la fennec le br che sono quelle che uso fisse praticamente vabbè tu tu c'hai pure il multiplayer si ma ci ho giocato l'ho comprato ci avrò giocato uno a due ore in totale ma ma sicurati ma lui tutti i subr tutti i subr tutti i subr vabbè io gioco gioco 3-4 ore al giorno al massimo eh ma se ti metti a fare cioè te le fai tranquillamente perché ti dico se c'è un diciamo non so se è un bug comunque fatto sta che le missioni se completi tipo le quest di scassinamento le taglie eh se le completi con l'arma che puoi potenziare in mano ti fa tipo tre livelli a missione quattro livelli a missione e le armi per maxarle ti potrei portare al 25 tipo quindi ce le fai veramente velocemente poi se hai i gettoni xp doppi ancora prima ovviamente capito vabbè ancora non mi sono messo a farle però io aspetto ancora che rimettono Rebirth no no io sono molto contento di questo gioco onestamente mi piace tanto io non proprio no a me piace bellissimo vabbè anche a me anche a me piace solo che hai visto quando muore uno deve aspettare un sacco che lo rianimo si i soldi non c'è secondo me è la migliore la nostra cosa è che i soldi sicuramente li aumentano notte Vito buonanotte sicuro li aumenteranno ci sono veramente pochi soldi è vero questo è vero poi avete visto muore uno rianima l'altro poi un'altra volta da solo è una è una rottura è che ci vuole troppo a trovare i soldi è quello il problema di base proprio eh vabbè eh vabbè vabbè comunque anche a me piace cioè dai si è bello è bello mi devo abituare ancora no meglio di niente ecco tutti i zitti sì comunque ci sono italiani in questa lobby sì sì ce ne sono ce ne sono vi per ma comunque ci sono un sacco di italiani che giocano porco due io ne trovo quasi in ogni partita ma voglio voglio ce ne sono un sacco ma ho messo a tirare quella in terza persona ma che cazzo ho fatto? dai palle madonna mia ho sbagliato che palle vabbè dovevi lasciare così tanto vedi che l'hai messa un'altra volta a me appare un'altra volta che l'hai messa no stavolta l'ho messo sicuro BR sfrenata terzetti giusto eh vero a voi vi sponda BR sfrenata terzetti terza no terza persona no terza persona mamma mia raga ora vabbè lo devono ora va bene lo devono aggiustare un po' sto gioco eh aspetta che c'è anche Stefano aspetta 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 che vediamo se da solo lo invito qua il amico mio moderatore allora vediamo se me lo fai invitare così ci andiamo a fare una scuola che ore so è solo eccolo vado quasi quasi le due da voi porco due si qualcune cose da migliore ci sono Cristiano sono d'accordo anch'io però è bello il gioco di base è molto bello devo dire si è fatto tanto tanto si io penso di fare un'altra e poi sta qui non so che se Stefano arriva o meno l'ho invitato beh vedi 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 ma avvio per ora allora 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 vediamo se ci trova sto trio raga vado a dormire bello fast vado a dormire sono stanchissimo siamo tre Ste voi quanti siete se sei solo ti invito fra che faccio l'ultima dai grande Cristiano grande fra aiaiaiaiaiaiai la troveremo mai la nostra partitozza mi chiedo chissà chissà vabbè ci vogliono almeno 30 minuti non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 2.200. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andate 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 indietro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. si stanno... e a tutti. grazie 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 a tutti. 2 giorni che c'ho qua in questa mappa eppure io sto giocando da 3-4 giorni e non vabbè non c'è andarla non c'è andarla che c'è gente c'è al 100% mamma mia puoi provare non lo so vabbè provaci tanto non c'è niente più da perdere solo la vita vabbè madonna che fastidio però quando ti da così 100 200 ma perché ti da quello così poco le casse senza soldi eccole qua oh 500 erano quelli che culo ecco ci ha sentito il gioco ma dove sono ma nelle casse veramente non ne fanno scema sono stronzi guarda vabbè usa usa l'AV vai madonna in testa questo bombi no 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 vai sparolo vai 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 sotto acqua nooo nooo garama fate andare sotto acqua ma c'è il gulag si 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 madonna mi che panico con il bomba madonna ma è sfondalo vai il bomba hanno messo si eh si però bello grande grande vai adesso devi devi ricominciare tutto da capo vai ma non mi è capitato mai col bomba ancora con il gulag a me è capitato e fa schifo dove vado ragazzi ovviamente non si davanti eh dove vuoi tu fra non lo so no no è quello basta ora ti metto io il ping dove puoi andare a morire vai fatti uno scassinamento qua sotto se ci arrivi non lo so dove? qua qua eh lo sotto in fondo si non lo so se ci arrivi stai secondo me è tutto lootato sì se no magari provo a vedere se c'è loot ma sarà tutto lootato sicuro ah proprio così col pompa ecco soldi vai 105 oh a sefa a sefa vabbè tanto non trovavi soldi sono morto qua no no oh donna mi come fa brutto questo qua sotto c'erano i camper una volta su mv2 quando si giocava su sta mappa in multi erano tutti puntati qua sotto belli che ti aspettavano sì ma c'è tutto lo so c'è gente davanti a me oh no sì sì oh lì mortaggio che partita ma non è così vabbè fai attenzione pure alla safe fai che è abbastanza veloce non ti fa prendere da lei ecco vai vai non è lootato qua quella cassa ci saranno 20.000 certo manco un euro non c'è un cazzo vabbè ha trovato 500 sul tavolo dai madonna madonna mi sono 3 minuti safe questo potrebbe essere una cosa positiva perché comunque magari non sono tutti concentrati qua gli ultimi 40 ma non non ci rianimano più cioè visto che qualche volta ci rianimo da solo c'era l'evasione non so se su sto gioco esiste allora di vederla l'ho visto sì c'è c'è esiste esiste sicuro perché l'altro giorno mi è capitato di trovarla vabbè solitamente ti rianima quando guarda a destra quando danno i loadout gira gira a destra guardali guardali che volano no 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 ah va verso avanti verso avanti avanti a te non l'hai visto vabbè niente niente no non l'ho visto vabbè sciper fai finire che non li vedi vabbè adesso ma trova quella casa a sinistra questo sarà sicuro lo d'altro eh quella casa là questa qua eh questa si si c'è la casa oh dai madò ma perché non danno i soldi ci sono soldi sullo scaffale ma pochissimo che cazzo fai un culo il gioco di merda 100 eh mettitala una piastra che ormai mi sa che te la dovrei giocare ma che cosa ma che brutta cosa però si inizia a posizionare perché già tu sei l'unico essere in safe in questo momento hai questo vantaggio no qua non mi piace tanto direi meglio dentro una casetta di quelle no qua è brutto sei troppo open eh sì questa non è male tipo si ma di dove si c'entra mettiti al finestrino non la spezzare la finestra non la rompere così magari non ti vedono c'è un drone bomba che non lo so che cosa magari potrà servire più avanti e niente aspetta vabbè se vuoi lo saperemo il drone bomba è che secondo me c'è un sacco di nemici vicino a te eh ma come faccio a farlo uscire sul drone eh apri la porta e non lo fai uscire eh non esce così deve aprire tutta la porta non esce sì esce esce ecco vedi vai che uno lo uccidi vai guarda se te ne rientro la missione è questa da qui bravissimo questa zona qua tipo a sinistra guarda tipo oltre qua guarda ma non c'è nessuno ma perché saranno ma non ho capito le safe capito cioè ci sono tre safe in questo momento ora si stanno unendo tutte nel cerchio dove è lui ecco la macchina che peccato peccato la te le facevi tutti cazzo vabbè sdraiati un po' sulletto va se non avevo un riposino buonanotte una kill ecco ti ho puntato alla porta però ti uccidono dalla finestra vabbè guarda tutte e due cose ma secondo me non rientra nessuno si sento qualcuno qualcuno prima o poi deve eh si io direi di stare zitti che se passa qualcuno non ci sente però la chat attiva 24 madonna mia sto chiedendo che era di però la chat attiva questo ti ha sentito ci sta anche questo ragazzi ci sta anche questo ecco perché disattivo la chat vocale Giuliano io ti dico grazie passatempo ragazzi ragazzi io vado sentite forse sono uscito prima del tempo non dovevo vabbè auguro a tutti una buonanotte grazie sempre per la compagnia e per il supporto noi ci vediamo domani mattina qui in live un bacione ciao belli miei